buonasera buonasera si sente là in fondo si si sente anche nell'altra sala si ce l'auguriamo ringraziamo Valeria che fa la traduzione anche in lingua dei segni visto che siamo in diretta streaming in tutta Italia io ringrazio voi perché ripeto avere problemi di posti a sedere il martedì sera a Milano per parlare di quello che c'è dopo l'euro significa che c'è buona speranza del fatto che l'Italia possa rialzarsi e svegliarsi da questo incubo io ringrazio con orgoglio tutti coloro che sono protagonisti di quello che sarà l'inizio di un percorso che ci porterà a girare tantissime città in Italia ringrazio Mario Giordano uno dei pochi giornalisti liberi che ha capito che cosa ci aspetta ringrazio Marco Zanni un ragazzo molto preparato mio collega all'Europarlamento che sono ben fiero e orgoglioso di avere insieme a noi ringrazio Claudio Borghi responsabile economico della Lega che ci ha dato una mano a scrivere e poi almeno da questo punto di vista ringrazio personalmente colui per cui tutto è cominciato perché se probabilmente non avessi letto il suo tramonto dell'euro in concomitanza con la mia elezione a segretario federale probabilmente staremo parlando di altro lo ringrazio per la sua acutezza e per la sua apertura mentale Alberto Bagnai a cui verranno erette statue nelle principali piazze d'Italia ringrazio voi che siete qua perché mi auguro che siate moltiplicatori del messaggio che senza presunzione riteniamo essere un messaggio di verità e di speranza ringrazio loro che sono di là e sono altre 350 persone questa dimostrazione del fatto che c'è fame, c'è sete, c'è voglia ringrazio chi da oggi pomeriggio si sta consumando il ditino scaricando gratuitamente il pdf dal sito bastaeuro.org con le nuove 37 pagine illustrate che spiegano cosa c'è dopo ringrazio anche coloro che non sono mai venuti a un convegno fra virgolette politico che sono qua stasera per la prima volta, professionisti, imprenditori, avvocati, medici, notai perché ci interessa parlare soprattutto a coloro che hanno dei dubbi la serata dal mio punto di vista, e poi cedo il microfono a Mario è rivolta non tanto a chi ha già capito, a chi si è già svegliato quanto a chi è a casa, io poi farò un collegamento alle 10.20 qua fuori con Rai3 con Agorà dove ci sarà Paolo Mieli e quindi mi chiederanno come faccio a sostenere certe eresie l'euro è quello che sta salvando la nostra economia e bla e bla e bla però la serata e il libricino sono dedicati a coloro che magari avete ragione però non si può magari avete ragione però costa troppo perché Mediobanca dice, perché Banca Italia dice, perché Goldman Sachs dice e quindi noi cerchiamo di spiegare perché sulla vita quotidiana sulla benzina, sulla casa, sul garage, sul costo delle materie prime sul mutuo, sui beni di prima necessità non solo non cambia niente in peggio ma dal nostro punto di vista l'Italia riparte come abbiamo scritto ringrazio anche Marcello Foa che è uno dei più illuminati dal mio punto di vista che scrivono in Italia e in Svizzera a cui magari la serata è organizzata così poi cedo il microfono a Mario un primo giro dei relatori fra cui io non mi inserisco perché io mi faccio da ariete per portare avanti le loro idee non essendo onnisciente anzi io sono qua da studente questa sera un primo giro dieci minuti a testa per essere ciascuno dal suo punto di vista rapidi, poi un secondo giro però prima del secondo giro chiederei anche a Marcello Foa un commento da osservatore, da analista, da giornalista sul fatto, su questo curioso fenomeno che da circa un mesetto tutto quello che in bene ma soprattutto in male accade nel mondo è colpa di Trump perché prima era stato Putin adesso è stato Trump che però è stato eletto grazie agli hacker russi di Putin quindi è tutto questo circolo vizioso che ci porta sempre al punto di partenza quindi sarà una serata un po' fuori dagli schemi non noiosa se poi qualcuno di voi vorrà chiedere qualcosa eccependo sostenendo che non abbiamo capito niente sarebbe la mia massima ambizione perché io adoro il confronto non imponiamo verità però cerchiamo di rompere quel muro di omertà che ha difeso una moneta criminale per troppo tempo quindi grazie a tutti parole in microfono a Mario Giordano grazie io faccio da moderatore quindi distribuirò la palla come un buon centrocampista come Leo Giugno che è Albertini del Tempidò anche perché sono rimasto un po' deluso perché Matteo mi aveva attratto qua dicendomi che avrei dovuto moderare un dibattito con Antonio Tajani e con Gianfranco Librandi e invece non ci sono e quindi io non mi divertirò stasera perché sono tutti sostanzialmente no, ascolterò e imparerò e ho sempre da imparare e quindi non perderò una sola cosa volevo dire perché mi sta un po' qua sul gozzo visto che ho visto che il tema è un'altra Europa è possibile e io appunto sulle questioni tecniche sul come uscire come fare ascolterò come sempre e cercherò di imparare da Borghi da Bagnai però sul modo di comunicazione anche qui poi anche Marcello chiamerò a intervenire però a me fa impazzire questa cosa sulla possibilità perché tutte le cose su cui non si vuole discutere nel merito è impossibile ci avete fatto caso cioè non c'è mai stata una discussione fino adesso si comincia ad aprire ma dopo quanti anni di battaglia una discussione sulla possibilità ma l'avversario appunto i Paolo Mieli di Turni Beppe Severignini tutti quelli che volete non discutono mai nel merito partono sempre dal presupposto che è una follia è impossibile cioè tutto ciò che è fuori è impossibile è un metodo di discussione spaventoso per cui non si entra mai nel discutere io accetto una discussione in questo il professore come dire è stato il professor Bagnai è stato cosa conviene quando conviene quando non conviene quando una cosa si può fare quando è conveniente o non è conveniente come tutte le cose di questo mondo mentre invece ci sono alcune cose che sono tabù guardate avviene nella comunicazione dell'euro come avviene su altri campi vi faccio un esempio l'altro giorno come avete visto probabilmente avrete sentito all'improvviso Bruxelles si è svegliata e ha detto che il blocco navale sulla Libia intorno alle acque della Libia era improvvisamente possibile ma quante volte proporre il blocco navale sulla Libia ci si è sentiti dire è una follia siete dei criminali siete degli assassini cioè non c'è una discussione sul merito su come si fa ma c'è semplicemente un mettere al di fuori della discussione cioè impedire tu non sei neanche degno di affrontare il tema è una cosa che neanche si discute è quello che appunto si definisce un tabù e ancora adesso dopo anni dopo i turdele è ancora un tabù fortissimo è un tabù fortissimo non si riesce a discutere mai nel merito per cui sono stato contento adesso appunto al di là della scienza di Tajani di essere invitato a questo incontro proprio perché c'è la speranza è la possibilità di entrare nel merito io stamattina ho scritto sul mio giornale un articolo che mette in evidenza una cosa che sta succedendo e che appunto è l'unica cosa che vi volevo dire prima di cominciare il primo giro di intervento cioè che all'improvviso dopo un anno e mezzo in cui il problema era sparito e che fa proprio parte della comunicazione si torna a parlare di Grexit all'improvviso per un anno e mezzo non si parlava più di Grexit all'improvviso si parla di Grexit come di cosa possibile entro il 20 febbraio ci sarà una riunione Schäuble ha già detto che il fondo alla fine si può prendere in considerazione la Grexit il fondo monetario internazionale ha detto che sono necessari ulteriori interventi per la Grecia deve fare un ulteriore piano di austerità cioè ulteriori tagli e le pensioni cioè ulteriori interventi fiscali altrimenti non si andrà avanti nel piano di aiuti ma addirittura dice il fondo monetario anche se si fanno questi interventi che sono micidiali per un paese che ormai in ginocchio strema più che in ginocchio ormai defunto anche se si fanno questi interventi nonostante questo il problema del debito resterà comunque quindi di fatto si dice che la Grexit si farà è una cosa come dire all'improvviso che appare come buono e come possibile guarda caso tutto ciò avviene dopo che l'ultimo atto uno degli ultimi atti credo della spogliazione della Grecia è avvenuto con il benestare di Bruxelles i 14 aeroporti più redditizi della Grecia sui 37 che sono i 14 più redditizi sono passati come voi probabilmente sapete alla Germania alla società fra porte di proprietà pubblica quindi c'è stata una vera e propria spogliazione dalla proprietà della Grecia alla proprietà della Germania una spogliazione della Grecia quindi la Grecia è stata completamente spogliata il porto del Pireo è andato ai cinesi le ferrovie sono a trenitalia tutte le imprese private sono state vendute la Grecia è stata spogliata è stata svuotata è stata spremuta adesso che è stata spremuta è un calcio nel culo via fuori adesso non ci serve più ti abbiamo preso tutto quello che ti potevamo prendere signori attenti è quello che sta succedendo anche all'Italia è quello che sta succedendo all'Italia ci stanno spremendo ci stanno spremendo e ci cacceranno fuori quando saremo svuotati e quando saremo inutili allora c'è tempo per intervenire c'è tempo per salvarci c'è tempo di fare qualcosa di uscire dall'euro prima di essere cacciati fuori con calcio nel culo come una pezza da piedi usata e inutile è la prima domanda che vorrei girare al professor Borghi io ne approfitto per salutare Massimo Garavaglia assessore al bilancio di Regione Lombardia e il professor Paolo Becchi dell'Università di Genova che è qua davanti e che ringrazio per la presenza ringrazio per il momento anche i di 150.000 italiani che sono stati raggiunti dalla diretta streaming nei primi dieci minuti di questo convegno e questo è quasi commovente 150.000 più di Sky TG24 eh cioè eh oh eh ma qualcosa sta succedendo qualcosa sta succedendo e io sono molto ma molto felice di vedere di sentire un clima che mi fa ben sperare mi fa ben sperare perché l'unica cosa che manca a questo paese è svegliarsi noi siamo stati addormentati ma siamo stati addormentati purtroppo storicamente quante volte l'Italia è stata addormentata quante volte siamo stati calpestati quante volte ci hanno trattato come degli zerbini e noi sempre fermi perché tanto non si può cambiare tanto sono sempre così le cose almeno per una volta per una volta vogliamo provare a prenderci il posto che ci spetta perché noi non siamo gli ultimi della fila noi siamo una nazione che nell'arte nella cultura nella storia la storia dell'Occidente ha sempre avuto una funzione da guida per i singoli mai come collettivo grandi uomini ma nessuna iniziativa di paese tutti fermi tutti a farci calpestare purtroppo il tempo è poco il tempo è poco e ormai la posta in gioco è piuttosto alta quando a un certo punto la prima grande bugia che ci hanno fatto credere vale a dire quella dello spread vedete che già adesso sta ritornando quanto tempo è che noi non sentivamo la parola dello spread adesso si ritorna a parlare di spread a un certo punto è apparso lo spread come se e ci hanno detto è colpa del debito è colpa del deficit non avete fatto le riforme e così questo tipo è apparso lo spread spero di non aver toccato qua ecco vabbè tanto allora è apparso lo spread e improvvisamente è arrivato un esecutore dal nulla tale Monti Mario che doveva salvarci dallo spread cosa ha fatto alla fine di tutto ci ha fregato 63 miliardi perché ci ha fatto firmare una bella cambiale a favore di tedeschi francesi e così via per tramite dei fondi salvastati di 63 miliardi lo spread ovviamente nulla c'entrava con questi 63 miliardi voi pensate l'illogicità io divento matto ogni tanto perché ci sono delle cose che non sono per niente logiche cioè a un certo punto ti dicono ma tu non hai più soldi quindi dammi 63 miliardi ma ma scusate non c'erano più soldi per pagare le pensioni lo sapete ve lo ricordate non ci sono più soldi per pagare le pensioni quindi dammi 63 miliardi ma uno che non fosse della Lega perché in Parlamento gli unici che alzarono il ditino furono quelli della Lega Nord ma uno che dicesse ma dov'è la logica non c'era ecco in questo caso quello che sento è che la grande enorme bugia invece dell'euro dell'infallibilità dell'euro dell'indissolubilità dell'euro dell'euro che non si può cambiare dell'euro che non si può pensare di uscire e così via sta finendo e il fatto che voi siete qua stasera è perché secondo me quell'aria la sentite anche voi come la sento anch'io io sento nell'aria che qui sta finendo tutto quello che era indissolubile indiscutibile una follia adesso si può fare ma sarà un disastro quindi non è che la gente che vi ha detto una bugia clamorosa se ne sparisce se ne va a casa dicendo che non se ne poteva nemmeno parlare perché l'euro è indissolubile e il primo fra tutti è Mario Draghi sempre detto non si parla cioè l'euro è indissolubile non è neanche possibile pensare invece grazie a quel signore lì seduto al tavolo Marco Zanni che fa una letterina e chiede come è il suo mestiere di deputato dice io chiedo cose e tu mi devi rispondere ha chiesto ma scusate ma se io per caso esco cosa succede ed ecco che improvvisamente la risposta che prima era la domanda non ha una risposta perché è indissolubile non si può uscire ha detto si puoi uscire però devi pagare 380 miliardi brutto scemo 380 miliardi di pago perché aspetta aspetta per ringraziarti evidentemente della prosperità che che c'è stata che c'è stata portata qua poi dopo tecnicamente andremo a vedere di che si parla di questi 380 miliardi sarò lieto che che Marco ce ne parlerà però voi sappiate una cosa dato che quello che era impossibile è diventato possibile noi stiamo lavorando da 5 anni per questo momento non è che arriviamo adesso e diciamo a noi da 5 anni lavoriamo per questo momento e abbiamo ogni tipo grazie e abbiamo già pianificato come fare come comportarci come gestirlo cosa fare che mosse fare in modo tale da minimizzare il danno e ripartire e ripartire nel modo migliore possibile perché non c'è un solo modo poi dopo per ripartire noi abbiamo una nostra proposta però di sicuro in tanti hanno delle idee diverse su come ripartire gli unici che hanno già studiato e preparato come fare come perché e come gestire siamo noi che non mi si venga a dire per esempio che il Movimento 5 Stelle può essere un'alternativa non hanno la possibilità non sono riusciti a scegliere l'assessore al bilancio a Roma uno che non è in grado di scegliere ma neanche gli altri uno che non è in grado di scegliere l'assessore al bilancio secondo voi ha già il piano pronto per l'euro no vi piglia in giro con la storia del referendum che come da libretto non si può fare ma l'euro è finito io sto sentendo il fatto stesso che abbiano ormai messo sul tavolo il costo il terrore è la seconda fase la prima fase è la negazione dopo c'è il terrorismo è esattamente la stessa tattica che hanno usato con la Brexit non si può non si può votare no alla Brexit perché se no altrimenti l'Inghilterra sarebbe la fine della civiltà occidentale parole di Tusk presidente della Commissione Europea ora la fine della civiltà occidentale non c'è stata l'Inghilterra con un grande atto di autodeterminazione dei popoli cosa che dovrebbe essere a cuore di chiunque era leghista e chiunque pensa di esserlo l'autodeterminazione dei popoli un popolo se vuole fa quello che crede si può fare non è vero che non c'è alternativa si può fare si possono fare anche cose strane sopportandone le conseguenze e ne abbiamo un altro che ci sta dimostrando in questo momento negli Stati Uniti che se si vuole si possono fare delle cose si possono fare delle cose per esempio come nel caso di Trump mantenere un programma elettorale strano eppure eppure lo fa ci vogliono i tempi e in questo caso i tempi sono maturi la nuova versione del basta euro adesso oltre l'euro perché ormai è dato per morto e quindi questo serve soltanto a qualcuno che non ha ancora capito a qualcuno che non ha ancora capito glielo date in mano e ci sono tutte le domande tutte le risposte in modo tale che così evitiamo di discutere ancora di inflazione di risparmi di mutui tutte queste cose che normalmente ci spaventano è tutto qua tutto scritto era già tutto scritto l'abbiamo rinfrescato ma quindi tutte le domande del perché del per come sono già qui noi adesso pensiamo avanti pensiamo avanti come costruire come uscire e mi tocca anticiparvi qualcosa mi tocca anticiparvi qualcosa tenuto presente che la stessa cosa questo è il basta euro stesso testo è identico parola per parola in Francia distribuito da quelli del front nazionale a tutti i loro deputati a tutti i loro simpatizzanti fra un po' stessa roba girerà anche in Olanda quindi abbiamo una piattaforma comune fra tanti popoli europei che sono una dimostrazione che un'alternativa è possibile perché se tante grandi nazioni sono d'accordo in quello che c'è scritto qui e vedete che non c'è più soltanto l'Europa della Merkel ce n'è un'altra d'Europa già pronta e il passo però lo devono fare lo devono fare i popoli dovete essere voi noi possiamo presentare una soluzione ma poi dopo quello che vota è il cittadino e l'occasione in tanti paesi si sta avvicinando vi comincio a anticipare una cosa ma vi assicuro che ce ne sono tante perché noi ci studiamo da cinque anni la paura il timore di arrivare in condizioni disperate al cambiamento perché quando noi sperabilmente al governo apriremo il tavolo per cercare di portare a casa insieme con altri popoli che sperabilmente anche loro avranno ottenuto il mandato dai loro cittadini per chiudere questa scellerata esperienza dell'euro però potremmo essere fragili potremmo essere ricattabili potremmo essere pressati perché potrebbero chiuderci i rubinetti della moneta bene ve ne dico una così giusto per tranquillizzarvi che l'abbiamo pensata poi dopo passiamo passiamo avanti bene tutti i soldi che in questo momento sono nei nostri portafogli nelle cassette di sicurezza e così via tutte le banconote di euro sono un numero che è nell'ordine dei 100 miliardi bene è una cifra vicina a quello che sono i debiti dello Stato già certificati nei confronti di tanti soggetti quindi imprese creditiva credito d'imposta magari noi abbiamo un credito d'imposta che non c'è ancora stato pagato un risparmiatore che è stato azzerato e che deve aspettare il risarcimento lo Stato deve tanti soldi a tanti di noi più o meno per una cifra analoga ed è già debito quindi non è che devo fare un debito in più o così questo tipo o aggiungo soldi o aggiungo soldi dal nulla questo è già debito dello Stato bene è molto possibile subito pagare tutti questi debiti all'unghia con dei titoli di Stato di piccolo taglio quindi noi possiamo tranquillamente lo Stato può fare perché non è che il BOT o il BTP devono essere soltanto di 1000 euro e di taglio se ne possono fare da 50 euro magari un po' arancioni se ne possono fare da 20 magari un po' blu se ne possono fare da 10 magari un po' rossi da 100 un po' verdi e possiamo pagare istantaneamente tutti i debiti della pubblica amministrazione con questi titoli di Stato di piccolo taglio a interesse zero con cui si possono pagare le tasse che possono essere liberamente circolabili e beh signori voi capite che se noi già facciamo questa piccola cosa oltre a fare un atto di minima giustizia perché è una cosa vergognosa che lo Stato non paghi quello che deve ai suoi cittadini mentre invece lo pretende con ferocia da ogni volta che è lui a essere a essere creditore metteremo in circolazione una moneta stampata e prodotta dallo Stato non da una banca biglietto di Stato è arrivato Draghi subito è arrivato subito Draghi è arrivato subito Draghi che gli è venuto un colpo va bene così guarda mi va bene mi va bene il buio mi va bene il buio e a quel punto voi capite che se uno teme e con questo poi dopo in breve tempo circoleranno si sistemano anche i Bancomat li possiamo automaticamente girare e così quando qualcuno magari gli venisse l'idea marcia di dire io ti blocco l'arrivo degli euro così tu devi fare obbligato a fare quello che vuoi quello che io ti dico di fare possono bloccare gli euro ma non possono bloccare i bot quindi automaticamente noi avremmo già una moneta in circolazione che poi potrebbe diventare la nostra questo è una delle cose che vi posso dire che abbiamo studiato è possibile è possibile fare tutto i risparmi non corrono rischi tutto questo lo potete guardare e poi soprattutto si possono fare delle politiche diverse delle politiche diverse ricorderemo l'austerità come una follia si potranno fare politiche diverse e infatti su questo io sono ansioso di sentire cosa ci può dire Alberto Bagnai del perché solo una volta usciti si possono fare delle politiche diverse e di come si possono fare tutelando i salari e tutelando i risparmiatori che è il contrario di quello che invece l'euro fino adesso ci ha costretto a fare perché l'euro ci ha costretto ad ammazzare i salari a licenziare la gente ad espropriare i risparmiatori e se non ci svegliamo adesso non ci svegliamo più grazie grazie non ho capito bene perché quelli da 10 sono rossi e quelli da 50 sono blu ma poi magari sono arancioni scusa aspetta un attimo appello tecnico è molto intimo stare con la luce soffusa ecco stavo dicendo era molto intimo però siccome nei primi 23 minuti i numeri dicono che sulla pagina facebook abbiamo raggiunto 391 mila persone con più di 3 mila commenti se riusciamo ad avere la luce accesa magari è meno intimo da casa però mi scuso con i primi 3 mila e 100 commentatori a cui evidentemente non siamo in grado di rispondere fra di loro mi dicono esserci anche Tajani che sta seguendo il convegno forse anche Librandi che ha finito la trasmissione televisiva e segue ringrazio Claudio Borghi perché ha già puntato avanti ci ha detto due cose no ce ne ha dette tante ma diciamo sostanzialmente uno ha cominciato a buttare avanti qualcosa su che cosa fare e ci ha dato un anticipo di quello che poi ci dirà credo ancora più diffusamente dopo ma soprattutto ha detto una cosa importante cioè siamo passati dalla fase del non si può neanche discutere alla fase del possibile è possibile anche se appunto come abbiamo sentito da Mario Draghi il possibile è un po' costosetto 380 miliardi di euro perché c'è il possibile allora la seconda la secondo passaggio quando la cosa diventa possibile è possibile però se tu lo vuoi ti distruggi esattamente come è stato la Brexit tu vuoi veramente fare una cosa non ti dico più non riesco più a dirti che è impossibile perché ormai è talmente palese che è possibile però ti dico che se succede quella cosa lì tu sarai divorato devastato arriveranno le cavallette le sette piaghe d'Egitto ci sarà il terremoto i dromedari in Val Padana succederanno delle cose devastanti la scarlattina perversa succederanno delle cose e allora adesso siamo un po' in questa fase qua a cui attiene anche il 380 miliardi di Mario Draghi e la domanda su cui volevo girare abbiamo detto è possibile però a me capita anche nelle discussioni che ho anche come dire in ambienti in cui dovrei discutere forse un po' di meno ma mi si dice ma perché perché no non lo faccio sennò poi si capisce no ma poi l'Europa in fondo l'Euro e l'Europa sono quelli che ci hanno garantito la pace ci hanno garantito se tu vuoi uscire dall'Euro vuoi distruggere l'Europa tu condanni la guerra la pestilenza la carestia la morte la distruzione i bombardamenti Bresda distrutta le città devastate tu condanni l'Europa alla morte allora Marco Zanni noi che cosa rispondiamo? ma prima di tutto visto che siamo in tema in queste in queste settimane di fake news Mario Draghi credo dovrebbe essere il primo che finisce sotto la tagliola del del Ministero della Verità della Commissione Europea perché ovviamente quello quello che ha detto in quella ormai famosa risposta a questa interrogazione che abbiamo fatto è una falsità ma d'altronde lui gioca gioca il suo ruolo e difende difende il suo feudo e non potrebbe dire nient'altro di diverso da quello abbiamo visto tutta l'evoluzione dello storytelling sull'euro io sono entrato mi ricordo nell'estate del 2014 al Parlamento Europeo e mi ricordo questa prima scena col commissario all'euro perché adesso hanno fatto anche un commissario responsabile per l'euro che è un lettone Vladis Dombrowski abbiamo fatto questa audizione per confermare fasullamente davanti alla commissione di cui faccio parte la nomina del commissario e io gli chiesi proprio questo con mille orpelli gli chiesi se uno stato che decidesse democraticamente di uscire dall'euro ecco come si comporterebbe la commissione e la cosa fu molto divertente perché lì per lì lui si trovò in difficoltà avendola messa sul piano democratico anche se questi signori non sono diciamo campioni in questa disciplina però mi disse un po' in difficoltà sì in quel caso la commissione dovrebbe dare un supporto tecnico al paese che vuole uscire il giorno dopo cosa bellissima io mi immaginavo quella scena di Hollywood Party non so se vi ricordate il film dove il cameriere che sbaglia a fare una cosa viene ripreso dietro dal metro ecco mi immaginavo Juncker che riprendeva Dombrowski infatti il giorno dopo comunicazione ufficiale del commissario sull'euro diffusa mezzo stampa l'agenzia che dice che la sua risposta era stata travisata e che l'euro è irreversibile questo mantra che abbiamo sentito per anni adesso è caduto è caduto perché ce lo dice lo stesso Mario Draghi ormai non possono negare l'evidenza dal 2017 sarà un anno speriamo di grande cambiamento io penso ma non voglio fare guffo che sarà un anno che studieremo sui libri di storia e quindi anche Mario Draghi deve ormai ammettere che l'euro è irreversibile e così farà con questi fantomatici crediti di Target 2 non lo farà perché lo dice Mario Draghi ma c'è già stato un prestigioso economista che tra l'altro è tutto al di fuori che eterodosso e anti-establishment è uno dei cinque consiglieri economici della Merkel quindi una persona importante uno dei più importanti economisti secondo le classifiche tedesche del mondo il signor Sin ha mesi fa parlato già di questo Target 2 e con imbarazzante semplicità da persona che sta dall'altra parte ha detto se Italia Portogallo Grecia o Spagna dovessero uscire dall'euro la Germania quei 750 miliardi di saldo positivo se li scorda ecco questa credo sia l'unica verità che dobbiamo dire e la verità che purtroppo anche Mario Draghi a un certo punto dovrà andare a comunicare alla signora Merkel o ai giornali tedeschi che credono di essere una botte di ferro anche perché una regola semplice dice che se come oggi la Germania sei ultracreditore in un ambiente ultra indebitato insomma quello che ti devi di cui ti devi preoccupare è di veder ripagati i tuoi crediti perché questo è il rischio e quello che sta succedendo al sistema bancario italiano ne è esattamente l'esempio io voglio parlarvi anche un po' di quella che è stata e che è la mia esperienza al Parlamento europeo questa giornata ha un titolo importante ne parlavamo oggi pomeriggio con la stampa dividiamo due momenti questi signori che sono seduti qui accanto a me hanno fatto un lavoro straordinario per farci capire e farvi capire perché l'euro è sbagliato adesso più o meno lo ammettono tutti che l'euro non funziona insomma le soluzioni che si propongono sono diverse da una parte chi dice giustamente che l'euro va smantellato e bisogna uscire dall'altra chi falsamente ci vuol far credere che l'euro può essere aggiustato nella commissione bilanci affari economici e monetari al Parlamento europeo stiamo lavorando sul cosiddetto bilancio dell'eurozona o su meccanismi di assorbimento degli shock che non sono altro che una cosa vi invito a andarvelo a leggere il report sulla capacità fiscale dell'eurozona perché è una cosa aberrante mettono nero su bianco l'istituzionalizzazione della troica vi spiego due secondi per loro come funziona un meccanismo di assorbimento dello shock cioè creare a livello centrale di eurozona un bilancio che non è più circa 150 miliardi di euro oggi all'anno che è il bilancio dell'UE tra l'altro a cui noi siamo contributori netti con circa 17 miliardi di euro di nostre tasse che vanno a Bruxelles e poi ce ne tornano circa 10-11 e tra l'altro non li possiamo neanche usare come vogliamo ecco quello che vogliono fare è trasformare un bilancio da 150 miliardi a 7-800 miliardi di euro di bilancio quindi la contribuzione dell'Italia arriverebbe vicino ai 70-80 miliardi di euro ogni anno però ci dicono una cosa voi dateci questi soldi poi nel caso arrivasse uno shock e ne avreste bisogno ce li chiedete noi vi ridiamo vi prestiamo i vostri soldi ma poi vi imponiamo le nostre cosiddette riforme strutturali quelle che abbiamo visto in Grecia quelle che stiamo vedendo in Italia quelle che vedremo quando e se per malaugurato caso l'Italia e il governo Gentiloni dovreste essere costretto a bussare alla porta del MES o dell'OMT di Draghi questi sono dei criminali stanno mettendo nero su bianco il colonialismo dei paesi del sud Europa ma veramente questo è uno schema che abbiamo già visto applicato quindi il titolo devo dire che non mi piace moltissimo e non porta molto bene un'altra Europa è possibile perché al Parlamento europeo c'è qualcuno che ha usato questo schema e non è andata benissimo ma il concetto deve essere chiaro oggi abbiamo capito perché l'euro è sbagliato uscire dall'euro non è il fine ma è un mezzo ora dobbiamo spiegare dobbiamo attuare un percorso che fuori dall'euro ci permetta di far ritornare il nostro paese grande come ci sono dei piccoli punti secondo me da portare avanti e su cui lavorare credo che la nostra carta costituzionale che è una delle più belle del mondo è ancora una delle più attuali ci dica chiaramente e ci dia e dia a uno Stato a un governo chiaramente gli strumenti da portare avanti dobbiamo riportare al centro della discussione dell'azione politica il lavoro oggi il lavoro è il grande sconfitto è il grande schiacciato il grande sconfitto del progetto euro e del progetto dell'Unione Europea sono usciti oggi i dati aggiornati ma per chi ha un po' di onestà intellettuale nessuna sorpresa sulla disoccupazione nell'eurozona ovviamente i titoli dei giornali erano cala la disoccupazione nell'eurozona dal 9,7 al 9,6 è passata purtroppo in Italia questa disoccupazione è di nuovo leggermente aumentata e rimane a livelli inaccettabili il 12% il dato di disoccupazione poi sappiamo che quella reale è molto più alta e il 40% di disoccupazione giovanile cioè c'è una generazione purtroppo è la mia generazione che è completamente bruciata perché entrerà se andiamo avanti così nel mondo del lavoro a 35 anni con contratti a termine con contratti a tempo determinato la cosiddetta flessibilità che vuole imporci l'unione europea e non avrà una pensione una generazione completamente bruciata quelli che Padoa Schioppa chiamava i bamboccioni ma oggi dobbiamo interrogarci sul perché questa generazione oggi rimane a casa dai genitori perché probabilmente non ha nessuna opportunità di farsi una famiglia di comprarsi una casa perché il lavoro oggi non c'è le politiche che vanno messe in piedi una volta usciti dall'euro sono politiche che devono tutelare il lavoro e garantire un lavoro dignitoso a tutti i cittadini come possiamo fare credo che un punto fondamentale ma Alberto ne ha parlato talmente tante volte sicuramente ve lo può spiegare meglio di me riguarda la nostra banca centrale credo che gran parte del disastro che oggi noi stiamo vivendo è iniziato molto prima dell'euro l'euro è stato solo il culmine la manifestazione di un progetto criminale tutto è iniziato verso la fine degli anni settanta e gli inizi degli anni ottanta uno spartiacque fondamentale è stato nell'ottantuno quando Andreatta decise di separare e di rendere indipendente da chi e non si sa da cosa la banca centrale probabilmente indipendente dai processi di controllo democratico questo sicuramente e decise di mettere il nostro debito pubblico nelle mani dei cosiddetti mercati il quale unico obiettivo ma non dobbiamo farne una colpa loro perché quello è il loro mestiere è quello di massimizzare il loro profitto e quello che è accaduto è stato devastante insieme alla liberalizzazione dei mercati dei capitali alla folle deregolamentazione finanziaria che abbiamo visto dalla fine degli anni ottanta hanno creato le condizioni che poi hanno portato a Maastricht 1992 il trattato di Maastricht che è diciamo l'architrave di quella che poi è stata la moneta unica che è stata introdotta nel 99 o nel 97 se vogliamo prendere la data in cui hanno fissato i cambi tra le valute questo percorso ha portato degli effetti devastanti sul nostro paese tanti ancora oggi leggo articoli di giornale o i cosiddetti prestigiosi giornalisti che ci fanno credere che uscire dall'euro ci costerà svariati fantamiliardi il direttore prima diceva che non entrano nel merito perché se entrassero nel merito dovrebbero darci ragione questo è l'unico motivo non sono persone stupide sono persone intellettualmente disonesti ma un ragionamento che dobbiamo fare è anche nel caso che uscire dall'euro oggi ci costasse e sappiamo che non è vero ma non ci siamo mai fatti una domanda non ho mai visto un articolo di giornale che ha messo nero su bianco su quanto è costato agli italiani stare nell'euro quanto si è svalutato il valore della vostra casa il patrimonio immobiliare una delle maggiori ricchezze in mano degli italiani quanto si sono svalutate le vostre azioni se avevate in borsa delle azioni intesa San Paolo nel 2007 stava a 7 euro oggi sta a 2 euro ecco facciamo i conti di quanto ci è costato in termini di ricchezza patrimoniale degli italiani stare nell'euro e vedrete che convinciamo tutti e domani anche nel caso assurdo che dovessimo pagare 350 fantamiliardi di euro a Draghi e alla Merkel gli italiani sarebbero ben contenti di uscire ovviamente non tutto è semplice non tutto è rose e fiori ma bisogna portare avanti a piccoli passi delle politiche che ci permettano di riprendere in mano il nostro destino noi oggi senza poter controllare le nostre politiche monetarie la nostra valuta le nostre politiche fiscali e di bilancio siamo come un centometrista che tenta di battere Bolt senza le gambe oddio forse Pistorius ce la potrebbe fare in una certa maniera oggi non può più però sapete che è impossibile è impossibile perché perché noi abbiamo delegato a istituzioni fuori dal controllo non solo nostro ma fuori da qualsiasi controllo democratico perché la commissione europea e la banca centrale europea agiscono fuori da qualsiasi controllo io quando devo andare a vedere i documenti delle riunioni dell'SSM un altro meccanismo criminale cioè del meccanismo di supervisione di sorveglianza europeo io devo andare devo fare richiesta io sono un parlamentare europeo eletto che ha preso le preferenze devo fare richiesta devo andare senza cellulare senza niente in una cavolo di stanzina chiusa senza finestre senza aria condizionata leggermi i documenti cercare di imparare duemila pagine vedere se hanno fatto qualche porcheria e spesso ne fanno e portarmi a casa tutto e se devo dire qualcosa non posso citare quei documenti perché perché c'è un accordo tra il Parlamento europeo e l'SSM che io non posso rendere pubblico quei documenti questa non è democrazia questa è un'autarchia queste persone agiscono nel più assoluto non controllo da parte delle persone da parte dei cittadini e sono alla merce delle lobby io mi ricordo una un episodio allucinante dell'inizio si parlava di regolamentazione dei derivati un altro buco nero un'altra questione che l'SSM ha detto una cosa allucinante nei giorni scorsi ogni volta chiedevo alla NUIC al presidente di questo meccanismo di spiegarmi un po' perché nei loro stress test considerano giustamente il rischio di credito ma si dimenticano di considerare il rischio di mercato e di fare un assessment corretto di quelli che loro tecnicamente chiamano gli asset di livello 3 cioè strumenti totalmente illiquidi quindi che non hanno un mercato di riferimento e che vengono valutati dalle stesse banche con modelli che creano loro cioè la banca stessa decide il valore che va messo a bilancio di quell'asset lì io chiesi alla NUI nel 2014 quando a novembre pubblicarono per la prima volta gli stress test e lei mi disse ci siamo dimenticati forse l'anno prossimo lo faremo e sono emersi dei verbali dell'SSM delle settimane scorse dove la NUI ammette e dice noi non siamo in grado noi regolatori noi supervisori non siamo in grado di stimare o di capire quanto cazzo valgono quegli strumenti e poi vengono a rompere le scatole a noi con 300 mila miliardi di crediti deteriorati sicuramente il sistema bancario italiano ha dei problemi ma i problemi grossi oggi stanno da un'altra parte cosa succede e ce l'ha detto il Fondo Monetario Internazionale ieri ce l'ha detto la Lagarde purtroppo in Europa essendo un'istituzione completamente antidemocratica e alla merced dei più potenti le regole vengono applicate o vengono strutturate secondo la convenienza di chi è più forte la Germania è stata brava a plasmare un'unione bancaria che proteggesse le sue banche e attaccasse le banche concorrenti noi ovviamente siamo stati più stupidi perché abbiamo mandato persone incompetenti al Parlamento Europeo e non ci siamo mai interessati di quello che accadeva in Unione Europea e la Germania ce l'ha messa sotto il naso noi di Beilin e sui nostri giornali di Beilin di BRRD si è iniziato a parlare quando la direttiva doveva essere recepita in Italia a dicembre 2015 la direttiva è stata votata al Parlamento Europeo a marzo aprile 2014 cioè come al solito ci facciamo fregare chiudo attenzione perché quello che stanno facendo al Parlamento Europeo e nelle istituzioni europee è gravissimo sanno che il sistema sta per crollare sanno che il sistema è in pericolo e come diceva Claudio prima faranno di tutto per prendersi tutto quanto possibile prima che il sistema crolli ci sono due vie che stanno tentando attaccare il debito pubblico italiano e il sistema bancario italiano che sono ovviamente due delle nervature delle architravi principali del nostro paese e dell'economia di un paese come attaccano il debito pubblico e il sistema bancario il sistema è semplice oggi secondo la regolamentazione bancaria che viene decisa a livello di G20 il comitato di Basilea dove siedono banchieri centrali e ministri delle finanze delle 20 economie più grandi del mondo decide delle linee regolamentari che poi vengono implementate a livello di stati o nel caso nostro soprattutto a livello di Unione Europea oggi i titoli di stato dei paesi dell'Eurozone e dei paesi dell'Unione Europea per le banche sono risk free cioè detenerli a bilancio cioè acquistarli e tenerli in bilancio per le banche non comporta nessun requisito di capitale aggiuntivo cosa vuole fare l'Unione Europea ovviamente ce l'ha detto uno degli economisti uno dei membri del direttivo della Banca Centrale Europea l'Euro e l'Eurozone è uno dei pochi sistemi al mondo dove il debito pubblico è un problema dove volutamente il debito pubblico non è risk free perché i paesi emettono debito ma non controllano la loro moneta cosa vogliono fare vogliono obbligare le banche che detengono titoli di Stato e probabilmente titoli di Stato con rating un po' più bassi guarda caso l'Italia ha un rating tripla B meno cioè ha un passettino da quello che è il cosiddetto livello junk vogliono obbligare le banche da un giorno all'altro a detenere del capitale aggiuntivo se vogliono avere in portafoglio titoli di Stato rischiosi come quelli italiani cosa vuol dire se il Parlamento se le istituzioni approvassero questo tipo di iniziativa vuol dire che o le banche italiane in pochi mesi dovrebbero reperire capitale aggiuntivo per decine di miliardi di euro o dovrebbero scaricare decine di miliardi di euro di titoli di Stato sul mercato quindi o va in crisi il sistema bancario e ci tocca bussare al MES al meccanismo europeo di stabilità come più volte ci hanno caldamente suggerito gli amici tedeschi oppure dovremmo fare richiesta sul debito pubblico sotto attacco del famoso OMT di Mario Draghi tutti e due i programmi prevedono la colonizzazione del nostro paese e l'intervento della troica nel nostro paese che sarebbe la fine stiamo attenti ora il nostro compito è denunciare queste cose il vostro compito è divulgarle l'ultimo concetto è poi chiuso distinguiamo sempre i concetti di unione europea ed Europa volutamente i media ci fanno capire che l'unione europea è l'Europa non è vero sono due concetti diversi può esistere un'Europa anche al di là ed esisterà dell'unione europea e il nostro compito lavorare su quello è far capire alla gente che un'uscita dall'euro e una dissoluzione dell'unione europea non vuol dire costruire un muro sulle Alpi ma vuol dire cooperare con gli altri paesi europei secondo quanto dice il nostro articolo 11 della Costituzione cioè in condizioni di parità ed equità con gli altri paesi e per perseguire un obiettivo di pace oggi l'unione europea non rispetta nessuno di questi due requisiti grazie la passione ringrazio per la passione che porta anche ad andare un po' oltre i tempi che ci siamo dati ma sono sicuro che il secondo giro saremo tutti più puntuali e più precisi Matteo io do io la parola per un minuto ad Alberto Bagnai vedo ci sono alcune proposte fra coloro che stanno commentando in diretta su come pagare i 380 miliardi di euro eventuali che ci chiedono qualcuno dice gli diamo in azioni di Banca Etruria qualcuno suggerisce assegni post datati con garanzia a casa Mario Monti quindi ci sono tante ipotesi per uscire da questa situazione debitoria qualcuno continua ad avere dei dubbi e ripeto il nostro obiettivo è parlare a chi ha dei dubbi non a chi ha delle certezze io ho paura di chi ha delle certezze chi ha dei dubbi ma allora la mia pensione allora le materie prime allora il debito pubblico come le paghiamo allora le riserve aure allora l'inflazione il costo del lavoro eccetera 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 quindi Alberto ti lasciamo tutti i dubbi del resto del mondo mi sembra chiaro ed evidente che però a Bruxelles che io e Marco frequentiamo ci sia qualcuno che sta cercando di fare quello che qualche decennio fa provarono a fare con le camice brune allora si chiamavano Goebbels e Goering si occupavano di propaganda e di bombardamenti tramite aviazioni oggi ci sono i novelli Goebbels che controllano quasi tutti gli organi di informazione pubblici e privati mi stavo divertendo a guardare i siti dei principali quotidiani online giusto per fare nomi e cognomi Repubblica e Corriere ovviamente non c'è una riga su quello che sta succedendo perché ad esempio il Corriere dico il Corriere perché è milanese la nostra istituzione ha delle notizie più importanti rispetto a quello di cui stiamo discutendo adesso fra le notizie più importanti coccodrillo con un maiale intero nelle fauci nell'oceano il web contro Miss Canada pesi troppo lei reagisce ma ho fiducia in me stessa questi sono tutti più importanti del convegno di stasera l'arresto del procuratore capo di Aosta mozzarella e fontina in cambio di favori voi vi rendete conto che noi stiamo proponendo al popolo una rivoluzione culturale prima ancora che economica però il problema è che se arriva qua qualcuno e offre un po' di mozzarella e fontina a bagnare rischiamo di perderlo a questo a questo punto e questo dà però Corriere sulla home page un po' in basso dà spazio a Matteo Salvini ma non su tutto quello che ci stiamo raccontando oggi quanto su una mia dichiarazione di ieri che diceva 650 mila euro a Carlo Conti per il festival mi sembra una cifra esagerata che è una dichiarazione di una banalità quanto meno sconcertante però appunto il Corriere spazio per l'oltre euro non ce l'ha invece Repubblica che è quotidiano di ben altro spessore dedica l'apertura all'ipotesi scissione Bersani Gela Matteo e qua ovviamente c'è l'Italia che sta dibattendo del fatto che Bersani litighi con Matteo Inter Lazio 0 a 2 mi spiace per l'interista e quindi vi abbiamo risparmiato una sofferenza perché presidente si sta lamentando almeno se si occupa di qualcos'altro e via dicendo allora lo facevano coi bollettini allora c'era Leijar adesso ci sono i Tg quasi tutti i Tg pubblici e privati io non so qualcuno di voi ha mai visto Alberto Bagnai ospite di Bruno Vespa? Una volta ma avranno sbagliato hanno sbagliato l'hanno confuso per un altro pensavano che fosse uno di Masterchef o di qualcosa o di qualcosa di simile comunque ripeto a me non piace usare le parole a vanvera perché su di noi ne dicono di tutti i colori fascisti nazisti estremisti islamofobi omofobi basta che ci sia ofobi alla fine loro per loro la usano adesso è molto in moda sciacallo qualunque cosa tu dica o faccia c'è lo scemo che arriva lì sciacallo la prima mattina fai colazione sciacallo perché fai colazione però avete sentito che Marco Zanni mi sembra che abbia lì dei chiare sono ben contento che il gruppo ENF abbia strappato ai 5 stelle un ragazzo di questa maniera e quindi penso che sia lui che noi avremo avremo di che divertirci abbiamo superato quota 600 mila persone raggiunte con questa neanche oretta questi 50 minuti di video e questo mi rincuora anche se ripeto probabilmente il mondo sta dibattendo di Miss Canada bello figo che fa il concerto a Ciampino bello figo mi sembra arrivante bello figo a Ciampino è sempre il Corriere comunque io non pago affitto io non pago affitto pensa che una volta il Corriere era un giornale importante era un giornale autorevole quindi però vabbè do la parola io vado a investire 15 minuti del mio tempo e della mia pazienza a discettare dell'oltre euro con Paolo Mieli e quindi ho visto che c'è anche Vittorio Sgarbi che quantomeno nella sua effervescenza io ricordo a un dibattito televisivo urlò a male parole con uno del PD che sosteneva che quando lui era bambino i ghiaccioli gli pagava mille lire e questo lo ciulavano se i ghiaccioli gli pagava mille lire perché qualunque essere umano normale non del PD i ghiaccioli gli pagava 200 o 300 lire però a lui evidentemente facevano la cresta nell'oratorio e gli facevano forse era quell'oratorio di Padova dove ne stanno succedendo di tutti i colori però ho riportato un po' più in basso il livello della discussione come mi è consono adesso torniamo un po' più in alto dando la parola in microfono ad Alberto Bagnaie grazie a Matteo grazie a tutti voi è la seconda volta che capito qui a Milano in meno di un mese la volta scorsa è stato a un incontro promosso da sinistra italiana sul tema dell'Europa e oggi siamo qui a parlare di quello che succederà dopo l'Euro che mi sembra un argomento un pochino più pertinente lì a sinistra fra il pubblico in incognito c'era Marco Pinti di Radio Padania che saluto e penso che ci fosse anche qualche altro leghista qua in mezzo ai fasciofobi così mettiamo insieme tutto so per certo che ci sono dei pericolosi comunisti quando sono entrato nel dibattito mi hanno accusato di avere dei toni inappropriati e di essere divisivo perché semplicemente dicevo mi interstardivo a dire che il cielo è azzurro e il prato è verde mi interstardivo a ripetere le cose scritte nei libri di testo che usavo a lezione però fatto sta che se vado dai comunisti c'è qualche fasciofobo e se vado dai fasciofobi c'è qualche comunista questa cosa vi devo dire mi inorgoglisce molto perché se c'è una cosa della quale non abbiamo bisogno in questo momento nel quale stiamo vincendo perché la verità si sta affermando con la violenza che le è propria che è la violenza dei fatti se c'è una cosa della quale non abbiamo bisogno è una guerra civile in questo paese abbiamo bisogno di un rinnovato senso di unità e di solidarietà nazionale e di stringerci intorno a dei valori comuni salvo poi riconoscere una volta passata la crisi e tutelare le differenze che è esattamente quello che l'Europa non fa vedete questo è molto importante anche perché Matteo ha fatto finta diciamo di abbassare i toni perché invece ha sollevato il vero problema il vero problema il vero ostacolo a una risoluzione democratica della situazione nella quale siamo è costituito dal sistema dei media e questo ce lo dobbiamo dire senza demonizzare senza accusare senza prendere atteggiamenti inappropriati inadeguati senza parlare di collaborazionismi e di Nuremberg ma dobbiamo oggettivamente riconoscere che il sistema dei media è un ostacolo potente al raggiungimento di un esito in qualche modo democratico e di una consapevolezza che sarebbe quella della quale avremo bisogno per risolvere la crisi è un problema? secondo me no perché? ma perché sta succedendo quello che scrivevo nel mio libro del 2012 visto che oggi ho bloccato uno che mi accusava di farmi pubblicità ma scusate ho detto che avrei passato il 2017 a dire io l'avevo detto ne approfitto anche questa sera io l'avevo detto che sta succedendo? ma una cosa molto semplice una cosa molto semplice che ha a che fare con quella cosa che pare che ci sia da oggi o da ieri come la Cina improvvisamente esiste la globalizzazione esiste lo scambio lo scambio è sempre esistito posso raccontarvi simpatici aneddoti di blocchi navali dei portoghesi ai cinesi nel mare meridionale della Cina dove c'è Macao e dove adesso le Filippine sono passate un po' più dalla parte della Cina dopo aver mandato un pochino al diavolo gli Stati Uniti allora è sempre vabbè ora ci si arriva un po' prima prima ci si andava però ci si è sempre arrivati qual è la novità che emerge quello che mi colpisce di questa fase è anche l'aspetto goliardico che mi permette di sopportare il peso del dibattito pensate a com'è finito il 2016 il 2016 è finito con Gianni Cuperlo che è il rispetto e che mi sta anche simpatico che salta sul carro di Renzi un momento prima che Renzi si schianti contro il muro del referendum è una cosa fantastica come inizia il 2017 con Grillo che passa all'Alde un attimo prima che Draghi dica che l'euro è irreversibile anche questa è una cosa fantastica vedete subito la differenza fra chi fa sul serio e chi fa per finta ecco vedete altro punto importante la vicenda di Grillo per esempio è abbastanza tragicomica è un altro immenso io l'avevo detto perché sapete che io dal 2012 cerco di far riflettere le persone su chi fa sul serio e su chi non fa sul serio molti sono valanghe di insulti subito ovviamente poi dilazionati nel tempo tanti ringraziamenti e tanti effettivamente avevi ragione tu più qualche ultimo giapponese nella foresta che blocco su Twitter è fine della storia perché in realtà a differenza di Claudio e a differenza di Matteo che sono molto democratici io non sono democratico perché la scienza non è democratica ma anche i colori non sono democratici questa parete non è nera cioè non lo so ecco ci sono delle cose che non sono democratiche e questo è un problema che è un problema che 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 esiste come ho fatto a capire che non facevano sul serio e questo è importante dobbiamo dobbiamo interiorizzarlo perché ci permetterà di fare sul serio e di far capire che stiamo facendo sul serio guardate era molto semplice capire che non stavano facendo sul serio tutta la loro comunicazione si basava su due cose la menzogna un'operazione come il basta euro non l'hanno mai fatta hanno fatto parlare chiunque simpatici esperti di matematica scappati di casa di qualsiasi estrazione non è neanche un esperto di economia monetaria internazionale dicendo tutto il contrario di tutto ritenendo che la democrazia fosse dare a delle persone ignare il più rumore possibile senza nessun segnale questo è un esperimento molto pericoloso le nostre democrazie funzionano con dei parlamenti dove ci sono dei partiti partiti che ci hanno insegnato a demonizzare perché facevano un lavoro utile e qual era questo lavoro utile? era quello di mediazione di mediazione fra problemi complessi e il corpo elettorale dando una linea alla quale si poteva aderire o non aderire ma che non era il semplicemente faccio parlare la chiunque e tu decidi con la tua testa perché in questo caso non si sta facendo un servizio alla democrazia e quindi la prima cosa che rendeva chiaro che non stavano facendo sul serio era guarda un po' sul fronte dell'informazione la seconda era sul fronte del messaggio economico tutto il discorso di quelli che fanno per finta di qualsiasi colore è un discorso contro lo Stato è un discorso che se volessi usare le categorie paludate dei miei colleghi è un discorso liberista che cos'è il liberismo? il liberismo è un'ideologia che cos'è un'ideologia? un'ideologia è un meccanismo attraverso il quale le cose belle vengono trasformate in cose brutte la libertà è bella e il liberismo è brutto che cosa vuol dire liberismo? vuol dire distruggiamo lo Stato e poi ognuno fa come gli pare e sì con questo piccolo dettaglio che nel mondo fa come gli pare chi è forte chi è debole fa come vuole quello che è forte lo Stato serve solo a questo allora purtroppo c'è una cosa sulla quale dobbiamo riflettere un discorso credibile di uscita dall'euro deve necessariamente essere un discorso keynesiano di recupero del valore dello Stato qui c'è un problemino chiaramente il problemino c'è perché lo Stato magari da queste parti magari anche con ampi margini di comprensibili argomentazioni è magari forse ancora visto come Roma ladrona però vedete io ho fatto un post nel mio blog dal titolo abbastanza eloquente Milano ladrona Berlino non perdona e di che cosa si occupava? Si occupava della competitività di questa meravigliosa regione che è indubbiamente una regione trainante e quindi anche meritatamente fra le più ricche del nostro paese quando siamo entrati nell'euro la legnata l'avete presa voi come l'hanno presa in Calabria solo loro partivano da più basso sono caduti di meno voi siete caduti da più alto e forse vi siete anche fatti più male anche se non tutti se ne sono accorti quindi il problema ce l'abbiamo tutti e tutti dobbiamo risolverlo insieme cioè questa è la cosa della quale non abbiamo bisogno è la guerra civile fra euristi e democratici a base di Nuremberg e urlate che poi tanto Nuremberg a che cosa è servito siccome qua vedo tanti simpatici amici famo er partitisti tanto simpatici amici nurembergisti tanti simpatici amici qualcosisti facciamo qualcosa i partiti ci sono sceglietevene uno che fa sul serio e andate a lavorare lì se no fate solo rumore questo lo voglio dire a tutti lo dico anche a me non è che lo dico a voi perché vi voglio fare la lezioncina Nuremberg è servito avere un primo governo tedesco pieno di nazisti con Adenauer padre dell'Europa una bella operazione cosmetica la vogliamo fare anche noi vabbè insomma non sono le corde che ci mancano ma non è questo lo spirito col quale dobbiamo affrontare un percorso di rinascita di questo paese è stato prima evocato il ruolo del allora fatemi un attimo di agganciare alla big picture quando tu ci arrivi qui con darmi un calcio sugli stinchi ci arrivo ci arrivo perfetto allora sono tranquillo io vado poi al primo calcio fino a due mesi fa era con noi solo la verità da due mesi è con noi anche Trump fino a ieri e mi dispiace dirlo io so quanti brividi nei salotti della gauche caviar questa mia frase susciterà sono anche un pochino birichino perché mi piace farli rabbrividire i miei simpatici compagni tanto poi con un po' di caviale si sanano tutte le ferite insomma è un'ottima pomata secondo snodo secondo snodo sorprendente ci sono molte persone che vedo qui per la prima volta e magari sono per esempio posso pensare persone che hanno fatto un percorso magari politico magari in questo partito di lunghissima data che dicono questo ma dove salta fuori sto teruno vabbè però altri che invece mi seguono si sono letti 1500 post del mio blog hanno letto 800 pagine di lì queste cose alla fantozzi e quindi sanno tutto per cui a loro non sto spiegando nulla di nuovo allora come vi dicevo fino a due mesi fa solo la verità era con noi la verità tecnica la verità fattuale cioè quella banale cosa che ci dice che monete diverse non possono avere una stessa moneta altrimenti la stessa moneta sarà troppo forte per qualcuno noi e troppo debole per qualche altro la Germania vabbè da due mesi è con noi Trump e da ieri se ne sono accorti in media ma è spettacolare Trump quello che io vi ho detto cioè che l'euro è una moneta troppo debole per la Germania perché è condivisa con paesi molto più deboli della Germania lo ha scritto nel suo programma di governo cioè nel suo programma uno di voi siccome a me della Comunità naturalmente me ne frega molto poco voi che mi tenete in vita in questa specie di coma vigile ogni tanto mi arriva guarda che scrive Trump io leggo ah cazzo però mi sembrava potrei averlo scritto io cioè che la Germania è un paese manipolatore di valuta questa cosa il dipartimento del tesoro americano la sta dicendo da due anni e chi legge il mio blog o mi legge sul fatto quotidiano ad esempio domattina sempre per la serie pubblicità lo sa il Financial Times se ne è accorto ieri e quindi improvvisamente se ne è accorta anche Repubblica o il sole 24 ore il sole 24 ore si è accorto del fatto che Trump ce l'ha su con l'euro ma scusate ma se voi siete un paese che ha un deficit di 500 miliardi di dollari più o meno e avete di fronte un paese che ha un surplus di 300 miliardi e in più svaluta nel senso che rende ancora più convenienti i propri vendi ma sarete un po' innervositi? beh sì no? questo mi sembra abbastanza evidente ecco siamo arrivati al momento in cui gli Stati Uniti si sono innervositi ora gli Stati Uniti noi gli vogliamo bene soprattutto adesso perché auspichiamo che ci tolgano da questo gran casino hanno questa simpatica abitudine pensierata di andare in giro a impiantare delle dittature e poi toglierle quando non gli servono più lo hanno fatto a grandi linee lo hanno fatto a grandi linee con il nazismo perché insomma sapete che insomma il miracolo economico tedesco come tutti i miracoli economici in giro per il mondo nell'ultimo secolo sono stati fatti con i soldi degli americani lo hanno fatto con Saddam Hussein l'hanno fatto con l'Europa è commovente vedere in che modo gli Stati Uniti avessero chiaro il dilemma al quale si trovavano di fronte nella gestione dell'Europa vi ricordate quel simpatico presidente Carter quello che mandò la Delta Force nel deserto a schiantarsi e poi dopo poi arrivò Reagan perché a quel punto con dei democratici così no? era chiaro che dovevi scegliere uno di destra che è un po' la situazione nella quale siamo noi adesso peraltro ma insomma apro e chiudo una parentesi comunque al di là di questo messaggio subliminale il suo segretario di Stato Cyrus Vance in un cablogramma che chi sta su Twitter ha letto e riletto miliardi di volte diceva una cosa fantastica diceva noi abbiamo bisogno di un'Europa politicamente unita però certo che se fanno la moneta unica questi ci creano un problema perché manderanno in deflazione l'economia mondiale rallenteranno la crescita del mondo ecco questo era chiaro nel 1978 il perché lo sapete benissimo all'interno di un sistema così rigido quando c'è un problema che viene da fuori siamo costretti ad adattarci e se per esempio l'America va giù come regolarmente fa perché ha quei simpatici mercati borsistici in cui ogni tanto c'è un crollo gli americani smettono di comprare prodotti europei e a questo punto gli europei devono adattarsi e come possono adattarsi devono adattarsi in gradi diversi perché magari il vino di porto o le scarpe di Armani o le BMW sono desiderate in modo diverso dai cittadini americani quindi dovrebbero adattarsi in modo diverso ma hanno una moneta sola allora devono adattare anche i loro salari e quali salari devono adattare quelli dei paesi più poveri e allora che cosa succede che nel momento in cui arriva uno shock da fuori la risposta è distruggere la domanda interna e quindi essere costretti a contare ancora di più sulla domanda estera per rianimare l'economia e quindi tagliare ancora di più i salari per rendere i beni ancora più convenienti e così via in una spirale senza fine senza fine cioè dentro l'euro non c'è crescita ora guardate che questo non è uno vuole la crescita perché per esempio se non guadagni non paghi i debiti cioè noi siamo in una crisi finanziaria non perché abbiamo troppi debiti ma perché abbiamo poco reddito e abbiamo poco reddito perché siamo costretti ad amputarcelo perché ce lo chiede l'Europa ma ce lo chiede l'Europa perché questo risponde alla logica del sistema che è una logica di amputazione dei redditi per rendere il costo del lavoro più conveniente il costo del lavoro ma che cosa bella ridurre il costo il costo del lavoro è il guadagno del lavoratore vogliamo dire tagliare gli stipendi ma se i giornali radio e i telegiornali negli ultimi dieci anni invece di riduzione del costo del lavoro avessero parlato di taglio degli stipendi ma staremmo ancora dentro? Ci siamo? perché il problema è solo questo non è non è un altro non è un altro almeno qui almeno qui almeno qui poi c'è un pezzo di Italia che purtroppo ha fatto un grosso investimento loro dicono politico ma in realtà è emotivo è affettivo in questo progetto vanno capiti sono rimasti orfanelli a un certo punto della loro storia e si sono trovati non una mamma ma la famosa governante tedesca della quale parla il collega di Mario che neanche nomino perché desidero non nominarlo va bene? con quelli il problema è serio perché vedete qui il punto e l'avete capito credo in molti se non tutti qua dentro è quello di smettere di demonizzare l'interesse nazionale perché dentro l'Europa tutti lo fanno il loro interesse tranne noi ma perché? perché siamo infiltrati da una cultura che ci spinge a demonizzare l'interesse nazionale allora scusate che c'è di male mettiamoci in un'ottica liberale se ci mettiamo in un'ottica liberale che c'è di male nel perseguire il proprio interesse teoricamente per un liberale questo è quello che si deve fare ci deve essere la concorrenza che fa allocare in modo più efficiente le risorse vale per gli individui vale per le giurisdizioni Hume padre del liberalismo intorno alla metà del settecento spiegava che il grande successo dell'Europa era dovuto al suo frazionamento politico esattamente come era dovuto al frazionamento geografico proprio orografico e politico della Grecia il grande successo della Grecia questo l'ho imparato da un signore che sta qua in prima fila perché mi sono letto anche le note del suo scritto che mi ha mandato sulla fine dell'Europa Paolo Becchi e ci ho fatto una bellissima figura tra l'altro con Roland Waubel che verrà a fare da keynote speaker al nostro convegno sulle simmetrie europee a fine marzo grazie Paolo che mi ha permesso di fare una bellissima figura con pochissima spesa ma mettiamoci in un'ottica comunista di sinistra ma scusate ma vogliamo continuare a difendere un sistema dove l'unica valvola di sfogo sono i salari e ovviamente vanno schiacciati cioè questo sistema la cosa interessante è che da qualsiasi ottica tu lo consideri sei marxista schiaccia i salari sei liberale schiaccia la libertà sei democristiano vabbè ci siamo capiti non funziona e infatti questo mi riallaccio e chiudo scusate io se volete vi parlo anche di dettagli tecnici come sapete mi appassionano cioè il blog mi ricordo quando ai tempi iniziali mi dicevano no non mettere grafici ogni grafico che perdi che metti perdi metà dei lettori e adesso è diventato il primo blog di economia in Italia quindi la voglia di capire c'è in chi non appartiene all'agenza piddina cioè quella strana perversione antropologica che consiste nel sapere di sapere nel non ammettere di non aver capito e vedete io cioè io li conosco questi io ce li ho intorno io ce li ho intorno la mia compagna che molti di voi conoscono è anche in parte una protagonista del blog che è anche molto personale mi ha portato più piddini in casa a lei io in realtà glieli ho sterminati tutti a un certo punto abbiamo cominciato a avere vite separate dopodiché anche lei non li sopporta più cioè io l'ho rovinato la vita non si può più i discorsi che sento però ecco per una volta faccio una cosa che non faccio mai mi propongo ad esempio se vi parlano non so di Trump dell'euro del mare mediterraneo rifugiato un meraviglioso sorriso e fate di sì con la testina tanto queste persone chi non ha capito oggi è perché non vuole o non può capire ma domani capirà perché se Trump vince la sua battaglia negli Stati Uniti di cui probabilmente ci parla Marcello il giorno dopo tutti i media diranno quello che ci stiamo dicendo qui e questa riunione carbonara di 4 gatti moltiplicati per 100 all'incirca che c'è qui diventerà il mainstream perché nella letteratura scientifica già lo è cioè abbiamo ragione noi mi dispiace per chi ha torto ma abbiamo ragione noi cioè non c'è un'altra non può funzionare in modo diverso ora naturalmente e qui e qui e qui chiudo volevo appunto riallacciarmi al discorso di Mario che ha fatto un'osservazione che forse è passata un po' un po' sotto traccia invece secondo me è quella determinante senza nulla togliere gli altri relatori cioè è impossibile il rifiuto la tabuizzazione dei temi tanto più forte quanto più le persone che si arroccano dietro questi tabù sono quelli che ostentano apertura rispetto a qualsiasi tema dalla libertà sessuale io ormai sto declinando per cui tendo a darle un po' meno peso ma insomma vabbè non ho nulla contro su tutto ma il tabù a me questa cosa colpisce cioè alla fine io penso che quello che mi non è tanto avere un master in economia a me sembra che a molte persone manchi proprio l'orecchio musicale perché le menzogne hanno un loro suono cioè si capisce che tutta una serie di persone che abbiamo nominato e che io non rinominerò mentano o mentano per esempio è evidente dal modo in cui si pongono cioè non si dice mentano o mentano mentano scusate mi dicono che è piana questa parola è evidente dal modo in cui si pongono vabbè sentite io vi lascio perché mi avevano detto adesso vai lì due scemenze e tieni gli svegli che poi parla uno che dice le cose serie adesso vi lascio a quello che dice le cose serie qua ci sono tanti numeretti che presto verranno pubblicati in una rivista scientifica che parlano di cosa succede quando usciamo in cinque anni recuperiamo cinque punti di pil più o meno uno e mezzo quindi se va male sono tre e mezzo se va bene sono sei e mezzo questo anche nel caso di crisi bancaria e anche nel caso in cui ci sia il famoso overshooting del tasso di cambio che poi non ci sarà se vi piace questa cosa dell'overshooting ve la spiego al prossimo giro adesso vi lascio grazie grazie professore allora seguendo fedelmente i dettami di Matteo Marcello vieni a fare un intervento e poi facciamo un secondo giro che promettiamo a tutti di essere molto rapido prima delle conclusioni di Matteo Salvini Marcello grazie mille davvero era imprevisto ma colgo volentieri questo invito per parlarvi del tema che più conosco che è quello dei media che anche Mario Giordano con cui ho lavorato per alcuni anni al giornale conosce molto bene noi viviamo un'epoca straordinaria perché per la prima volta da tanti anni i media non hanno più l'influenza che avevano un tempo guardate un po' che cosa sta succedendo cos'è successo nel 2016 Brexit terrorismo tutti i media inglesi schierati a favore del Remain e gli inglesi hanno votato per la Brexit Stati Uniti tutti i media tutti i media tutti i giornali tutte le televisioni tutte le radio tutti i sondaggi d'opinione schierati e non è una frase retorica è la verità per Hillary e ha vinto Trump Italia i media le grandi reti televisive con qualche eccezione schierate per il sì al referendum i grandi giornali schierati per il sì al referendum e ha vinto il no col 60% tutto questo perché? perché è successo un fatto molto straordinario quando io ho iniziato a lavorare fino a qualche anno fa le opinioni di chi aveva una visione diversa nei giornali venivano confinate al più nelle pagine interne diventavano degli argomenti quasi per disfizio quello che dice che strano ma vero strano ma vero gli opinionisti davvero liberi non venivano chiamati nei talk show perché al più servivano da alibi erano la scimmietta che potevi esibire per dire c'è qualcuno che la pensa in modo diverso e la gente non aveva altro modo di informarsi che non leggere ascoltare guardare quel che i grandi media diffondevano non c'era possibilità di vera alternativa se non su pubblicazioni isolate cinque anni fa Alberto Bagnai era un perfetto sconosciuto nessuno conosceva Claudio Borghi oggi molta gente si informa leggendo Alberto Bagnai leggendo Claudio Borghi quel che è successo e quel che diciamo così l'establishment non è riuscito a gestire non ha nemmeno previsto e c'è una ragione perché non l'ha previsto è il fatto che internet ha aperto oltre l'immaginabile la possibilità delle persone di informarsi e quando le persone hanno cominciato a vedere negli Stati Uniti che la guerra al terrorismo ha portato più terrorismo quando in Europa ti permettevano che l'Unione Europea avrebbe portato più occupazione più benessere ha portato più disoccupazione è più regressione economica e sociale quando ti dicono che l'immigrazione è un bene e invece provoca disagio sociale sia in chi arriva sia in chi è qui quando la gente con i propri occhi può verificare che le cose che ti dicono i media ufficiali non funzionano non c'è più propaganda che tiene perché oggi la gente va a informarsi altrove e questa è una rivoluzione che l'establishment nella sua arroganza perché di questo noi parliamo non è riuscito a intercettare ed è molto straordinario perché lo stesso sta avvenendo in questo momento in Italia la gente non ne può più la gente rifiuta la verità ufficiale però viviamo un'epoca molto molto pericolosa le campagne contro Putin io qui lo dico continuo a ripeterlo Putin non è un imperialista voi dovete citarvi un solo episodio in cui la Russia ha applicato una politica di invasione di occupazione di un paese terzo non è avvenuto una sola volta però Putin è descritto come un dittatore un sanguinario un imperialista che vuole minacciare l'Unione Europea contro cui la nata deve preparare anche le arbi atomiche noi abbiamo scampato il più grande pericolo della nostra esistenza se Hillary fosse stata eletta noi oggi avremo la prospettiva molto concreta di una guerra mondiale ma questo non lo ometteva nessuno prima oggi tocca a Trump lo diceva prima Matteo Salvini lo ricordava Alberto lo ricordava anche Claudio Trump viene demonizzato in maniera assoluta con tecniche che sono al contempio vecchie e nuove ovviamente io non posso spiegarvele tutte le conosco molto bene quelle vecchie sono quelle che ad esempio anche l'Italia ha subito a lungo per l'Euro contro Berlusconi chiunque andasse un po' fuori contro la Lega sapete quanto la Lega è stata demonizzata a lungo però queste tecniche non funzionano più come un tempo e allora si passa al piano B attenzione quando ci sono centinaia di migliaia di persone che scendono in piazza il giorno dopo l'insediamento donne che si lamentano contro chissà che cosa perché Trump non ha fatto nulla pensate a cosa ha fatto Bill Clinton alle donne questo si portava a letto l'estegista alla Casa Bianca di 19 anni mandate a leggervi gli scambi delle email che ha rivelato Wikileaks esce uno spaccato per cui le femministe dovrebbero scatenarsi contro l'entourage di Hillary Clinton non contro Trump però si scatenano nelle piazze guardate cosa succede in queste ore contro i rifugiati e nessuno ricorda a parte pochi che ad aver allontanato un numero incredibile di rifugiati ad aver respinto gli immigrati alle frontiere è stato prima di tutto Barack Hussein Obama però la cosa molto preoccupante è la mobilitazione delle masse la cosa molto preoccupante è la polemica contro le fake news e le post verità perché quel che stanno cercando di fare è di arginare questo fenomeno di libertà spontanea di mettere a tacere le voci davvero libere di impedirvi di informarvi liberamente attenzione quel che loro stanno cercando di fare in Italia abbiamo visto già le prime avvisaglie contro alcuni blogger e in giro per il mondo è quello di mettere a tacere le voci libere quello di applicare di fatto una vera censura con lo scopo di riportare una sola verità ovvero quella dei media mainstream ecco perché io sono tutto sommato molto fiducioso meravigliato felicemente meravigliato dei risultati autenticamente scandalosamente democratici a cui abbiamo assistito lo scorso anno ma al contempo consapevole che la vittoria per la la battaglia per la democrazia per la nostra libertà per la libertà di tutti i popoli per la vera indipendenza degli Stati Uniti non è ancora conclusa noi stiamo vivendo l'epoca in cui mettiamola simbolicamente veramente una lotta tra il bene e il male tra chi vuole l'autenticità del nostro sistema democratico della nostra libertà o contro chi si accontenta di quella che è una messa in scena della rappresentazione teatrale della democrazia io sono convinto che alla fine il movimento è talmente forte il malcontento della gente è talmente forte se vi capita di andare negli Stati Uniti andate dove adesso ad esempio un giornalista americano Friedman è andato e sta scrivendo un libro che uscirà da poco in cui dice oh sto vedendo un'America che non avevo mai visto certo se tu vai a Washington e a New York e a San Francisco quell'America non lo hai quando io ero inviato speciale tu eri direttore anche all'epoca negli Stati Uniti io non andavo a New York io andavo nel Missouri nell'Ohio nell'Ohio andavo nelle città dove la gente l'americano medio vive andavo fuori New York e fuori New York voi vedete migliaia migliaia di persone che vanno col carrelli vedete le strade colme di buche vedete gli erbacce vedete la gente che dorme per strada la gente che muore per strada nell'indifferenza generale vedete un paese che in larga parte della sua popolazione vive con i voucher e in certi momenti voi avete l'impressione di essere a Nuova Delhi non negli Stati Uniti è quella America che ha votato per Trump per un uomo scandalosamente di destra allora la battaglia è molto forte e io sono convinto che quando c'è un disagio così forte quando c'è un sentimento di tradimento delle promesse che sono state fatte non c'è propaganda che tenga la gente vuole continuare ad avere benessere vuole continuare ad avere libertà vuole continuare ad essere sovrana e continuerà a combattere con tutti i mezzi legittimi fino a quando questo non avverrà in piena misura anche la lotta contro quello che è un moloch omnipotente un nivro cioè l'Unione Europea nella sua espressione odierna rientra in questa duratura battaglia grazie grazie Marcello sì Marcello è l'irruzione della realtà io ho passato gli ultimi mesi della mia attività a litigare con persone che dicevano che il paese era meraviglioso che la gente non era vero che era incazzata che le meraviglie di Renzi stavano facendo stavano cambiando il paese ma l'irruzione della realtà in America come la Brexit solo che il passaggio successivo è quello di demonizzare la Brexit abbiamo visto non hanno vinto gli elettori inglesi ma hanno vinto i contadini sporchi brutti cattivi puzzolenti con lascelle pezzate l'America non ha vinto gli americani ma il 51% degli americani è contro Trump quindi la demonizzazione allora siamo andati un po' lunghi ritornato un materiale io chiederei ai nostri visto che io sono stato eccessivamente tollerante nel primo giro di essere sarò molto meno tollerante non calci negli stinchi ma direttamente la mannaia chiederei a Borghi Zanni e Bagnai davvero un intervento flash di 5 minuti non di più e poi così Matteo può concludere io vorrei che facessimo però questo salto nel dopo cioè abbiamo raccontato abbiamo letto abbiamo visto abbiamo il volumetto abbiamo letto il tramonto dell'euro quindi insomma anche se ci rimangono tante curiosità e tanti dubbi su qual è il momento giusto di uscire su come uscire quale sono le modalità ci sarebbero tante domande ma abbiamo tutte le fonti necessarie per informarci adesso quello che io vorrei qua che si scrivesse il primo capitolo Alberto se me lo permetti del nuovo libro che non è più il tramonto dell'euro ma l'alba della nuova moneta cioè sorge come sorge e allora mi piacerebbe che davvero buttassimo lì prima Claudio l'hai già fatto con una cosa precisa ecco mi piacerebbe che buttassimo lì 5 minuti davvero faccio partire il cronometro 5 minuti a testa che ci diceste 4 cose che succedono 5 cose 3 cose 5 cose che succedono l'alba della nuova moneta Claudio intanto vi rubo un minuto mamma mia mamma mia ce l'hai fatta sono stati i 15 minuti peggio investiti della mia giornata di oggi ho preferito svuotare il trolley li ho impiegati meglio perché ti siedi lì collegamento 22 e 20 22 e 21 22 23 24 25 26 tema loro sanno che noi siamo qua e stiamo parlando di questo tema indovinate qual era il tema quanto è cattivo Trump e c'era lì tutto lo studio che diceva quanto è cattivo Trump con l'apoteosi finale di Marcello Sorgi che dice che Trump è un inetto sostanzialmente poi mi danno la parola e dice Salvini cosa ne pensi e io dico ma voi mi sembrate fuori di testa oggi sono usciti i dati sulla disoccupazione giovanile al 40% e noi spieghiamo a Trump cosa deve fare negli Stati Uniti ma guardiamo in casa nostra cosa dovremmo fare invece di andare a spiegare a farle pulci perché ormai lo schema è come diceva Alberto io ero fuori sentivo applausi della Madonna e intanto sentivo Marcello Sorgi poi ti devo andare a risentire dopo perché lo schema è invito il leghista e gli chiedo se vuole fare anche lui un muretto a casa sua un muricciolo con dei rampicanti un vallo il coccodrillino il ponte elevatoio allora io stasera ho detto ma lì meno per il naso ho detto no io sono contro i muri non mi piacciono i muri vorrei semplicemente un po' di polizia alle frontiere per controllare chi entra e chi esce senza fare il muretto il muretto lo fai in campagna se hai la casetta servizio pubblicità però prima della pubblicità io tiro sul libricino perché ovviamente prima di andare via Marcello Sorgi fai comunque gli uomini forti Trump Craxi Berlusconi Salvini odiano la cultura dico cazzo stiamo presentando un libro e ti dedico un quarto d'ora del mio tempo per sentirmi dire che io ed ero lì libretto scaricato il libretto scaricato il libretto finisce la pubblicità a servizio intervistano dieci persone in via Padova a Milano e dieci persone in barriera Milano a Torino e in dieci dicono si stava meglio con Mussolini rientro in studio e intanto stava parlando Bagnai rientro in studio domanda intelligente del giornalista Salvini lei non si sente un po' pericoloso perché stimola queste persone a dire queste cose ho detto scusate ma se in via Padova non ne possono più è colpa di Salvini andate in via Padova e fate un po' di pulizia in via Padova io non mi sento l'uomo forte ma ordine regole certezza della pena legittima difesa servizio militare un po' di tranquillità e serenità non sono da da uomini forti sono idee da uomini normali e allora siccome mi stavano liquidando e c'erano rimasti male non voglio il muro non mi sento il nuovo Mussolini non ho l'immaginetta di Trump sul comodino ho usato e stavano parlando in studio stavano urlando io ho fatto come faceva pannella ai tempi scaricate basta euro.org basta euro.org così almeno spero che i miei dieci minuti siano serviti a qualcosa perché altrimenti era era veramente deprimente e questo è ma andato via io li ho sentiti arrivava il sondaggista Piepoli a cui era stato commissionato un sondaggio non sul lavoro sull'euro sulle banche sulle tasse sulla legge fornero no ma gli italiani vogliono l'uomo forte e e i due terzi diceva si voglio l'uomo forte ho detto ma ponetevi il problema evidentemente non è che Salvini Borghi chiamano tutti dovete volere l'uomo forte è perché evidentemente al governo abbiamo degli ominicchi deboli se poi la gente vuole l'uomo l'uomo forte però questo per dire la realtà vera di cui stiamo parlando qua e la finzione giornalistica mi è arrivato poi un messaggio adesso Salvini non incazzarti per per i tre perché sulla sette c'è la fornero quindi poi capite il quadro devastante e desolante con cui abbiamo da combattere però vado vado a vedere se all'altra sala ci sono ancora tutti e lascio la parola Claudio Borghi beh non so comunque se ci rendiamo conto di quanto conta avere un Matteo Salvini che ci consente di scardinare questo sistema perché io per esempio non ce la faccio io io che voglio provare a rispondere sul merito arrivo e invariabilmente c'è qualcuno qualche espertone di turno io già i prossimi me li attocco domani mattina omnibus domani mattina presto Taddei e Veronica De Romanis ecco allora arrivano questi due soggetti dicono una stronzata pubblicità e io rimango lì e dico cosa faccio io dovevo dire una cosa importante ma se non smentisco la stronzata che hanno detto la gente pensa che sia vera e allora devo passare il tempo a dire che non è vero no ma poi te li curo io domani te ne curo uno sul fatto quotidiano ti ringrazio secondo me inizia come una simpatica città di una regione del nord ecco credo Trento ecco potrebbe essere comunque voi capite che intanto va via il tempo e da casa cosa hanno sentito hanno sentito due opinioni differenti e quindi dicono vabbè ma sono due uno che la pensa così una che la pensa così invece è la parete bianca no è la parete bianca antidemocratica uno ha detto una stronzata l'altro l'ha appena smentito dovresti dire va bene quindi allora tu stavi facendomi perdere tempo vai via no invece invece niente e noi che da cinque anni diciamo delle cose che costantemente si sono avverate ancora adesso siamo nell'angolo della pubblicità in mezzo a Trump e così questo tipo gente che da cinque anni dice delle cose che costantemente è il contrario di poi dopo di quello che succede e invece sono ancora lì a farci la lezioncina e purtroppo io mi stufo invece Matteo è più bravo Matteo va lì e li mette in li mette in ridicolo ed è lui che riesce poi dopo a ritagliarci degli spazi preziosi quindi dobbiamo dirgli grazie non tanto perché ha preso un partito un movimento che era in difficoltà e adesso in buona salute ma perché è l'arma che ci consente di entrare dentro in un sistema che altrimenti spargerebbe costantemente volume a tutti gli italiani mentre invece lui riesce a svegliarli infatti io gli dirò sempre grazie anche perché per esempio senza di lui che mi spingeva a fare odio scrivere libri senza di lui il libretto non l'avrei mai scritto poi dopo invece adesso mi ritrovo una cosa che è diffusa in tutta Europa ma se non ci fosse tre minuti tre minuti tre minuti cosa facciamo scusate allora dobbiamo mettere in circolo denaro ma per mettere in circolo denaro c'è soltanto un modo facile il lavoro perché se io metto in circolo denaro con il l'elemosina di cittadinanza voi capite che il sistema non funziona ottengo dei delle persone dei dipendenti ottengo dei drogati ottengo della gente che è lì che aspetta la dose e non fa nulla noi dobbiamo creare lavoro e dobbiamo arrivare alla piena occupazione arrivare alla piena occupazione sarà il nostro primo obiettivo è difficile no che non è difficile arrivare alla piena occupazione e non c'entra il debito il Giappone ha il 200 e passa per 100 il debito pubblico terremoti più forti dei nostri tsunami sfighe di ogni tipo manca Godzilla che viene fuori dal porto di Tokyo ma penso che non si faranno mancare anche quello hanno il 200 e passa per 100 il debito pubblico e la disoccupazione non c'è tu vai in Giappone e non c'è un disoccupato ma non c'è neanche un immigrato clandestino se uno e le due cose spesso come dire coincidono se c'è un posto di lavoro dove un giapponese non può non può farlo chiamano qualcuno dall'estero il migliore possibile dall'estero per fare quel mistiere e vedete che arrivano come si fa a creare lavoro pur col 200% di debito beh ma scusate per creare lavoro col 200% di debito basta avere qualcosa da fare cioè sembra incredibile scusate ma se ci sono cose da fare e mi sembra che da qualsiasi parte noi ci giriamo qualcosa da fare c'è e c'è qualcuno disposto a lavorare evidentemente il problema già per buona parte l'abbiamo risolto perché se c'è qualcosa da fare e c'è qualcuno disposto a lavorare manca il denaro ma il denaro a quel punto lo riprendiamo noi nel momento stesso in cui non dobbiamo più farcelo elemosinare dall'Europa ma il denaro diventa nostro il problema non si pone e il rapporto debito-pil scende perché se noi ci mettiamo a produrre cose a fare a sistemare a rimettere in ordine questo paese tutto si sistema ma pensate in comuni col patto di stabilità 30 secondi Claudio basta che loro rimettano in circolo quel denaro e sono posti di lavoro e non se lo si chiede a nessuno la flat tax se io lascio denaro nelle tasche dei cittadini con una liquota giusta al 15% senza avere copertura io non devo cercare la copertura devo avere denaro nelle tasche dei cittadini loro comprano cose e io panettiere avrò da fare e io che vendo che ho un negozio avrò da fare io avvocato avrò da fare io notaio avrò da fare basta rimettere in circolo denaro abbiamo ogni idea per rimettere in circolo denaro una volta che il denaro sarà rimesso in circolo e la moneta sarà giusta e quindi non andremo a comprare un prodotto estero ma andremo a comprare un prodotto fatto qui vedete che il lavoro c'è per tutti come c'è sempre stato perché qua ci siamo sempre ricordati che qui chi non lavorava era chi non aveva voglia di lavorare adesso invece siamo passati in un mondo assurdo dove il lavoro è un privilegio noi faremo tornare il lavoro alla normalità grazie mi raccomando 5 minuti 4 punti per un'Italia oltre l'euro e per un'Italia oltre l'Unione europea un paio li abbiamo già detti prima ma è bene ribadirli cosa facciamo dopo il primo passo fondamentale è quello di riportare Banca Italia sotto legida del tesoro e di rimuovere il fasullo vincolo alla monetizzazione del deficit è un'operazione assolutamente normale di finanziamento del fabbisogno ci hanno ingannato dicendo che la politica monetaria doveva stare a riparo dal processo politico e democratico abbiamo visto quello che è successo ed è fondamentale riportare ridarci queste due armi queste due leve di politica per portare avanti la nuova Italia fuori dall'euro il secondo punto importantissimo una riforma completa del sistema bancario privato e del sistema finanziario una delle motivazioni e una delle armi che ha portato alla distruzione sociale in Europa in Italia all'interno dell'Unione europea è stato permettere ai capitali e alla finanza di impadronirsi dell'economia e di girare liberamente a fare danni il primo punto ripristiniamo una separazione bancaria cioè la parte buona sta da una parte e chi vuole fare speculazione chi vuole fare derivati dall'altra ma non protetto e diamo dei vincoli precisi a quello che possono fare le banche commerciali delle operazioni semplici una finanza al servizio dell'economia reale per finanziare la crescita il resto non lo vogliamo stretta regolamentazione dei mercati dei capitali altro che la capital markets union uno dei grandi e fasulli progetti che oggi l'unione europea ci mette sul tavolo per far ripartire l'economia sapete cosa significa capital markets union nel concreto sono due file legislativi su cui sta lavorando l'unione europea rimettere in piedi le cartolarizzazioni creando questo strumento fasullo che chiamano STS simple transparent and standardized securitization cioè cambiano il nome a un prodotto porcheria che ha fossato solo pochi anni fa l'economia e i rolli rimetteranno in circolo e l'altra è la revisione della direttiva prospetti cioè quei faldoni che in teoria chi investe in qualche strumento finanziario dovrebbe leggersi ecco il secondo procedimento è quello di allentare le necessità e i requisiti informativi da inserire in questi prospetti quindi ulteriore liberalizzazione della finanza noi non vogliamo questo non possiamo più permettere che la finanza si impadronisca dell'economia reale e distrugga l'economia reale dicendo con la libertà di movimento dei capitali se tu in Italia non sei disposto ad accettare uno stipendio che è la metà di quello che hai oggi io sposto tutto sposto i miei capitali la mia produzione e me ne vado in Romania questo non deve essere più permesso e il terzo punto è fondamentale una volta ripristinate le leve di politica monetaria e di politica fiscale che possono essere utilizzate fare un grande piano di investimenti pubblici nell'industria nella ricerca e nello sviluppo e soprattutto in un punto importante per evitare le tragedie che abbiamo visto in questi giorni servono miliardi di euro da investire per la messa in sicurezza del nostro territorio l'ho ripetuto settimana scorsa a una trasmissione è folle che noi siamo costretti a dare 60 miliardi di euro tra FSF tra prestiti bilaterali e tra MES per salvare le banche tedesche e le banche greche non possiamo trovare 20 miliardi di euro per mettere in sicurezza il nostro territorio sono punti semplici dentro l'euro e dentro l'Unione Europea con questi assurdi vincoli non li possiamo fare fuori lo possiamo fare e credo siano i primi passi che poi ci permetteranno come diceva Claudio di creare lavoro di creare occupazione e di mettere in circolo denaro nuovamente per fare l'Italia grande ancora permettetemi questa citazione grazie 4 minuti e 24 secondi perfetto adesso è una sfida però questa 5 punti di Pili in 5 anni dicevi prima glielo spieghi anche agli amici piddini di tua moglie no con loro non vado sono partito parlo di altro parlo di Proust parlo dei dischi che registro di cose così è molto importante con quel tipo di interlocutori dire qualcosa che li faccia sentire intelligenti così poi dopo si tranquillizzano e tu vai avanti per i fatti tuoi allora molto sinteticamente abbiamo visto che gli onesti non sono credibili sono andati al governo e l'hanno dimostrato voglio anche sottolineare nella mia professione che i negazionisti non sono credibili chi fino ad oggi ha detto che non c'era un problema evidentemente era perché non voleva studiarlo e quindi non saprà come risolverlo di cose da fare ce ne sono io vorrei un attimo soffermarmi sull'aspetto terroristico su quello che vi dicono per convincervi che non si può fare sento in giro delle cifre che non hanno assolutamente nessun senso vi parlano di svalutazioni della moneta dell'ordine del 50% ma forse del 30% o del 60% chissà bene allora desidero che voi sappiate che c'è una letteratura scientifica si può capire di quanto una valuta non è adatta a un paese e desidero che sappiate l'ho detto nel mio blog però Matteo aveva insistito sul fatto che dobbiamo fare divulgazione che tutte queste stime pubblicate su riviste scientifiche sono a singola cifra cioè quello che ci aspetta come paese è una valutazione dell'ordine del 7-10% tenete presente in media rispetto a tutti gli altri i nostri partner commerciali avete visto per caso cosa è successo all'euro rispetto al dollaro fra 2014 e 2015 ha perso il 30% del suo valore allora vedete perché perché stiamo vincendo e quindi perché è fondamentale darsi una calmata perché più il tempo passa più le menzogne stupide cialtrone di persone secondo me anche eticamente riprovevoli perché io non posso cioè certe persone che si espongono sui media per il ruolo che hanno e per quello che dovrebbero aver studiato per rivestire le cariche accademiche che rivestono hanno dei seri problemi di deontologia professionale se dicono delle scemenze simili bene allora è sceso l'euro rispetto al dollaro del 30% non è salita la benzina del 30% e questo perché perché fra la svalutazione e il prezzo delle materie prime ci sono tante cose e fra il prezzo delle materie prime e il prezzo del prodotto finito ce ne sono ancora di più quindi state tranquilli nessuno si aspetta che ci sia una sventata di inflazione devastante tale per cui il giorno dopo con i vostri sudati risparmi invece di due ghiaccioli a mille lire ne comprereste uno solo a duemila lire ecco questo non succederà nel caso vi interessino i ghiaccioli un'altra cosa che è importante da notare in tutto questo è che ultimamente ecco sono stato citato in uno studio di Mediobanca che ha fatto molto scalpore c'è stata un'importante deforestazione perché molti castori diciamo così hanno perché Mediobanca che è un istituto mediamente serio che si occupa di fare soldi e soprattutto di farli fare i suoi clienti cita i miei libri perché piccolo spot pubblicitario oggi mi faccio molta pubblicità perché so che fa imbestialire certe persone perché tutta una serie di cose che spiegavano i miei libri sono successe in quello studio si parla di una cosa importante cioè del fatto che una persona della quale ci avevano detto che avrebbe fatto l'interesse del nostro paese che ci avrebbe salvato e io iniziai il mio blog dicendo i salvataggi che non ci salveranno in un decreto nel quale veniva chiesto a noi italiani appellandoci alla nostra generosità di dare 60 miliardi all'Europa per salvare gli altri stati che noi sentiamo fratelli ha infilato una clausoletta tale per cui il nostro debito pubblico deve essere secondo lui ripagato in valuta forte e quindi tutti dicono ah ma vedi oggi c'era un giornalista non so sul foglio sullo straccio questa roba qui cioè una cosa veramente indegna per fortuna non mi ricordo chi è se no poi finirebbe a querele che allora dopo siccome tu devi ripagare il debito in euro anche se l'euro non c'è più il che peraltro crea un piccolo problema ma lasciamo stare tutto ti costerà il 20% in più sì tutto ti costa il 20% in più se svaluti del 20% allora noi abbiamo svalutato del 30% rispetto al dollaro siamo in surplus di bilancia commerciale già questo è qualche cosa che la moneta la tiene su altro dettagli non irrilevante forse non lo sapete ma il segno del differenziale di inflazione fra l'Italia e Germania è cambiato in Germania c'è più inflazione che da noi e quindi paradossalmente l'aggiustamento necessario è sempre più piccolo quindi catastrofi all'orizzonte non ce ne saranno ci sarà la crescita ci sarà un'inflazione a una cifra che è quella che ci serve per far girare l'economia e ci sarà la crescita il problema del debito si risolverà così quando dopo la seconda guerra mondiale gli Stati Uniti avevano un debito pubblico piuttosto notevole fatto appunto per togliere quelle dittature che avevano messo su Efseid Omar era il 44 ha scritto un articolo che ancora oggi si studia sulla sostenibilità del debito pubblico che cominciava con queste parole il problema del debito pubblico è un problema di crescita del reddito nazionale Monti che ha tagliato il reddito nazionale ha fatto aumentare il debito pubblico di 13 punti di PIL quindi non venite a raccontarci che siamo in uncharted waters che è tutto diverso perché oggi c'è la Cina e perché voi avete fatto il dottorato a Filadelfia ma chi se ne frega l'economia degli anni 40 va bene ancora oggi perché andava bene anche negli anni 40 del Settecento andrà bene anche negli anni 40 del Tremila perché sempre uomini siamo sono 4 milioni di anni che stiamo in piedi non deve venire uno dalla Sarfattia o dalla Bocconia a spiegarci quello che dobbiamo fare perché lo sappiamo già è scritto nei libri di storia e quindi tranquilli sereni la cosa fondamentale è evitare di entrare in discussioni eccessivamente accese con i gentili interlocutori che incontrate per strada vi fate male al fegato non convincete nessuno e date anzi l'impressione di essere dei pazzerelli lasciate che sia la storia con la doppia S maiuscola a convincere i fessi lo farà è molto triste considerate anche che c'è una crisi e una crisi fa delle vittime siate contenti di aver capito così le vittime non sarete voi e diffondete solo un moderato insieme di conoscenze perché qualche fesso che ci deve andare di mezzo la storia lo vuole auguriamoci di non essere noi aiutiamo i nostri fratelli ma con moderazione grazie prima visto che siete stati molto ligi prima della chiusura di Matteo vorrei un saluto del professor Paolo Becchi che anche lui sarà come sua abitudine conciso e risparmierà da genovese anche le parole sì cercherò di essere veramente brevissimo di fronte a queste relazioni che già ci sono state e soltanto richiamare l'attenzione su un punto che secondo me sembra nevralgico il tema più forse politico rispetto a quello economico che abbiamo visto soprattutto oggi anche se l'euro non è soltanto chiaramente un problema economico come uscirne io credo che qui cioè noi questo 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 incontro nasce dalla speranza che siamo addirittura oltre l'euro e quindi siamo già fuori dell'euro però non nascondiamoci la verità noi ci siamo ancora dentro l'euro l'euro c'è ancora l'euro ci tormenta l'euro ci fa morire cioè la realtà è questa la speranza è quella di uscirne ma ci siamo ancora dentro e il problema è come uscirne voi avete sentito è stato anche qui ripresa questo tentativo da parte del Movimento 5 Stelle che ha sempre avuto dell'idea del referendum è un'ipotesi come ho scritto anche oggi impraticabile è un'ipotesi impraticabile e anche se si volesse fare riferimento a un episodio che c'è stato nel passato non ci sarebbe poi per la legge costituzionale prevista una maggioranza tale per permettere un referendum consultivo che comunque non servirebbe assolutamente a nulla quindi scartata questa ipotesi che è inconsistente che serve soltanto come una sorta di tentativo strumentale di far capire che il Movimento 5 Stelle nonostante tutto contro l'euro una sorta di specchietto per le allodole per far capire qual è allora il modo per uscire dall'euro io non credo che non ci sia altro che l'uscita dall'euro è frutto di una decisione politica fondamentalmente di una decisione politica e come si può prendere una decisione politica di questo genere soltanto con un altro governo e questo è il dato di fatto saliente il dato di fatto saliente è che se noi vogliamo un altro governo dobbiamo necessariamente costruire un governo sovranista un governo che recuperi contro i governi che ci sono stati in precedenza che sono governi di una totale diciamo traditori volevo dire proprio di traditori della patria delle nostre tradizioni il recupero il recupero totale della nostra sovranità monetaria ma questo possiamo farlo soltanto con un uomo governo non è possibile farlo altrimenti non ci vuole nessun referendum ci vuole sostanzialmente un governo capace con un decreto legge di uscire dall'euro e questa è l'unica ipotesi ma per questo ovviamente hai bisogno di un nuovo governo ma uno lo Stato si faceva riferimento allo Stato io questo credo che sia estremamente importante ora qui il problema della Lega c'è perché l'idea della sovranità non è soltanto una sovranità leviatanica lo Stato centralista la critica nei confronti dello Stato centralista che ha sempre fatto la Lega ha ragione di essere tuttora non è questo il problema il problema è che noi dobbiamo recuperare un altro concetto di sovranità un altro concetto di sovranità che non sia necessariamente connesso all'idea di uno Stato centralistico ma uno Stato federale può tranquillamente avere due obiettivi fondamentali uno Stato federale anche nel senso proprio della Lega lo Stato federale su che cosa si deve basare comunque uno Stato su due elementi fondamentali quando uno Stato controlla la propria moneta e controlla i propri confini è uno Stato se uno Stato non è in grado di controllare i propri confini e la propria moneta non è uno Stato al momento noi non siamo uno Stato siamo una colonia se vogliamo se vogliamo ritornare se vogliamo se vogliamo ritornare ad essere effettivamente uno Stato abbiamo bisogno anzitutto di un nuovo governo sovranista grazie 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 professore allora io vi ringrazio tutti ringrazio Matteo di avermi dato l'occasione di essere qua perché credo che questa serata sia un pezzo di quella realtà che esiste che poi rompe e poi i vari Marcello Sorgi Severgnini se ne accorgono poi quando le cose accadono invece le cose maturano si preparano si preparano da anni come abbiamo sentito sentito qua e poi quando accadono poi più delle volte ci vengono dopo a spiegarci come dovevamo capire che avevano ragione loro ma vabbè questo è un pezzo di realtà io sono stato e sono molto contento di essere stato qua stasera di aver condiviso questo pezzo di strada e sono ansioso di sentire come Matteo Salvini chiuderà e tirerà le file di questa serata con cinque minuti che valgono valgono anche per me i cinque minuti ma innanzitutto la soddisfazione di aver cominciato questa avventura ad Amati che all'inizio lo dico sottovoce anche in Lega non tutti avevano esattamente compreso sostenuto e accompagnato con entusiasmo poi fortunatamente le cose hanno cominciato a marciare ma due ore esatte anzi qualche minuto di meno non so a che punto sia l'isola dei famosi però noi siamo arrivati a due ore i numeri dicono che dal punto di vista social sulla mia pagina abbiamo raggiunto in queste due ore un milione e sessantamila persone con centosettantaduemila visualizzazioni e la media di frequenza più di porta a porta qui siamo più di porta a porta però anche stare sintonizzati migliaia di persone che stanno sintonizzate per due ore a casa vuol dire che grazie hanno anche distribuito posti di governo e sotto governo a tutti coloro che sono intervenuti abbiamo già mezza squadra io mi sono segnati alcuni dei suggerimenti Mario Giordano direttore generale della RAI mi volete male proprio fino a che non la privatizziamo con foe al TG1 per bagnare il ministero dell'economia a porte spalancate Alberto te tocca e quindi su questo una gran voce a proposito di attualità quando tornerà sotto controllo pubblico a vigilare a Banca Italia ci mandiamo Claudio Borghi che siamo assolutamente il buon Marco Zanni lo mandiamo a Bruxelles a trattare lo smantellamento dell'euro con l'Unione Europea a fare il commissario italiano per l'Ital Exit quindi vedete come abbiamo distribuito i posti di potere e sottopotere se volete fermarvi per un sottosegretariato poi fermatevi al tavolino all'uscita scherzi a parte è un orgoglio perché quando quando abbiamo politicamente per tornare al professor Becchi cominciato eravamo soli adesso che in prima pagina sul sole 24 ore sul Corriere della Sera si dibatta del come del se del forse è già metà dell'opera perché avere sdoganato il concetto la possibilità mentale culturale prima ancora che economica vuol dire che hai fatto un tratto di strada poi io non sono egoista e geloso delle mie battaglie e delle nostre battaglie se altri seriamente si aggiungono lungo il percorso sono contento quando pensando di mettermi in difficoltà mi dicono però Salvini adesso il ministro dell'interno parla di blocco navale e di espulsioni benvenga buon Dio se le mie idee contaminano quelli che hanno la possibilità di farle io sono solo contento non sono di quelli che stanno all'opposizione e se domani arriva un'ottima proposta che io condivido dico no perché arriva dalla maggioranza dico benvenga vuol dire che la nostra testardaggine il muro l'ha scalfito adesso ovviamente la Lega dovrà fare delle scelte importanti perché si vota secondo me è assolutamente possibile e plausibile che entro giugno si voti entro giugno vuol dire omaggio o giugno se la legge elettorale quella che abbiamo a disposizione è chiaro che è difficilmente ipotizzabile una maggioranza di governo perché se il PD prende sulla carta il 30% e io mi domando dove lo prenda sto 30% di voti il PD è una cosa che mi fa imbestialire è una cosa che io non capisco però la democrazia a differenza degli altri io la rispetto quindi se è così per carità di Dio 5 stelle Iden con patate e poi c'è il cosiddetto centrodestra questa entità fantasmatica melliflua che va che viene che allunghi che tiri metti dentro vai insieme non andare insieme tiralo dentro tiralo fuori che cosa fermaci l'alleato l'alleato capito male si parla dell'alleato che poi Marcello Sorgi dice che siamo pure sessisti qua dentro oltre che essere populisti quindi vi chiedo sia per chi ha simpatia per la Lega sia per chi invece ci guarda da fuori come una bestia un po' strana però di darmi una mano perché l'onore e onere di colui che guida in questo momento è tanto perché c'è chi vorrebbe rimanere a fare azioni politiche in alcune aree del paese perché dice adesso ci godiamo il nostro 30, 40, 50% dei voti però ragazzi abbiamo a che fare con dei mostri con il leviatano con il novello ministero della verità di Orwell e quindi è chiaro che anche se io prendo il 50% dei voti a Sondrio il 60% a Crusone difficilmente se non tengo insieme tutti i fili riesco a sconfiggere questo leviatano e quindi per me sarebbe più semplice stare fra Milano Brescia Cuneo e Treviso ma io sono testardo e io ci torno in Puglia io ci torno in Sicilia io ci torno in Sardegna io ci torno in Campania per provare a vedere se i semi delle identità delle autonomie dell'orgoglio l'Italia sono 8.000 campanili sono 8.000 comuni sono 8.000 stemmi e Alberto lo dice ci vendono il taglio e la casta e tagliamo lo stipendio del sindaco che invece di 700 euro ne ne diamo 500 ma vi rendete conto della follia io sono stato nelle zone terremotate dove ci sono sindaci che non hanno dormito per 5 giorni non si sono cambiati i pantaloni non hanno visto i figli per 5 giorni per stare vicini ai loro concittadini sulle montagne abruzzesi e lo stato le ricompensa con 500 euro al mese con cui non si ripagano neanche della benzina che spendono per andare in giro in queste frazioni perché a questo la follia dell'autolesionismo ci ha portato quindi io sono convinto che le idee di rispetto e di campanili ci siano dia un pisano che è un livornese confondi un bresciano con un bergamasco un veronese con un vicentino o un napoletano con un salernitano e vai a dire a uno di Lecce che è quasi come quello di Bari ti fanno un mazzo così giustamente quindi è questa la sfida riprendere poteri tornare a controllare la moneta i confini le banche le culle perché abbiamo parlato di dati economici ma qua il dato più devastante che il 2016 è l'anno in cui gli italiani hanno fatto meno figli dal 1861 ad oggi di questo dovrebbero parlare i sorgi il Tg3 la 7 il Tg1 il Tg5 Bruno Vespa uno speciale di 6 ore non sull'anniversario del delitto di cogne perché questo è quello che stiamo vedendo ma perché gli italiani non fanno più figli e allora si chiama il sociologo l'antropologo quello che vuoi perché non fanno più figli perché gamminga i danè perché lui è artigiano e lei fa la commessa nel centro commerciale domeniche comprese e non hanno né tempo né voglia né speranza di far figli un popolo che non mette al mondo dei figli è un popolo morto è un popolo marcio è un popolo senza speranze e io queste culle voglio tornare a riempirle con una moneta giusta con un lavoro che sia lavoro punto punto 18 vi chiedo solo domani in ufficio ecco io vi chiedo solo questo domani in ufficio domani in studio domani al bar domani in posta domani in università invitate a scaricare sul sito basta euro qualcuno a cui se diceste io ieri sera sono stato due ore alle stelline faceva un caldo della madonna a sentire cosa succede dopo l'euro e questo vi guarda come se voi come una bestia strana come ma pensa te io sono stato a casa in salotto con mia moglie i miei figli c'ho mica tempo da perdere con quelle robe politiche lì e mentre tu non hai tempo da perdere con quelle robe politiche lì ti stanno svuotando il salvadanaio mentre tu non te ne accorgi perché sei tranquillo sul divano quindi dateci una mano a divulgare a divulgare queste queste riflessioni e poi e poi vediamo con oggi secondo me c'è un punto fondamentale io quando domani farò la conferenza stampa su un'altra cosa i giornalisti mi chiedono allora cosa fai con Berlusconi non sono io a dover decidere perché non stiamo parlando di qualche opzione della legge elettorale di chiaro ed evidente che o condividi questo passaggio e questa battaglia ma di più chiaro ed evidente che se noi vogliamo andare al governo a Roma per cambiare gli equilibri passando da Bruxelles ben difficilmente posso fare un certo tipo di battaglia a Roma con qualcuno che poi a Bruxelles è alleato della Merkel e mi vota il TTIP mi vota tutto quello che mi viene propinato dalle multinazionali e quindi avviate fiducia non perché io sia un uomo forte se no do ragione anche perché non ho il fisico sono 92 kg una cosa imbarazzante non sono mai arrivato a queste dimensioni e quindi per me la campagna elettorale salvifica perché i miei 5-6 kg lungo le strade dell'Italia le lascio giù sicuramente però grazie quando siamo partiti con questa idea bizzarra ero segretario della Lega al 2,9% secondo i sondaggi stasera 31 gennaio ci ritroviamo come carbonari in quel di Milano e stando al sondaggio di ieri di Enrico Mentana dal 2,9% siamo arrivati al 14% chi osa vince e quindi vi chiedo di darci una mano a vincere grazie a tutti grazie a Marco grazie a Alberto grazie a Mario grazie a Claudio ci vediamo presto grazie mille sì cazzo stasera mezzo chilo l'ho perso risparmia tempo ciao Paola ciao